Quindi il pubblico mistero si può accomodare, grazie. Ho la parola? Sì, prego. Grazie. Questa è una vicenda che ci affaticherà per diversi mesi. Sì, si tratta di un processo che ne contiene trenta, perché dovremo affrontare otto anni, quasi otto anni, di storia criminale ed investigativa di questa città. Prima di tutto occorre esplicitare il mio convincimento che questo è un processo che deve essere affrontato con assoluta serenità, con giusto distacco e con giusta pacatezza. Però prego tutti di affrontarlo con tanta, tanta, tanta curiosità per cercare di trovare, se possibile, quella verità che ancora sfugge dalle carte processuali depositate e che sembra ancora sfuggire anche dalle indagini integrative che stiamo conducendo. Lasciamo quindi fuori da quest'Aula, che benché così grande riteniamo non riesca comunque a contenere il dolore dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime, qualsiasi polemica passata o recente che chi vi parla non ha certo provocato, che ha subito in silenzio, ritenendo questo l'unico comportamento istituzionalmente doveroso in simili frangenti. Noi non saremo in grado di stupire nessuno con effetti speciali informatici, sottoporremo alla vostra attenzione il nostro modesto lavoro di artigiani dell'investigazione, per così dire. Abbiamo raccolto da qualche mese a questa parte una massa di documenti processuali, enorme, attraverso due udienze preliminari, celebratesi il 2 di novembre dello scorso anno e il 9 di marzo di quest'anno, lottando anche contro il tempo per la prima udienza, in quanto a seguito della riforma sulla custodia cautelare, che ha, per così dire, vanificato gli effetti, un tantino perversi forse, delle cosiddette ordinanze custodiali a catena. Comunque siamo riusciti a rimanere nei binari della custodia cautelare di fase e oggi possiamo affrontare, intraprendere questo compito. Vi ho detto che si tratta di 30 processi in uno, perché più o meno tanti sono gli episodi che andremo ad affrontare. Questi episodi, il primo di questi episodi è datato 31 agosto 1987, l'ultimo di questi episodi risale all'ottobre 1994, un mese prima circa dell'arresto della cosiddetta banda della Uno Bianca. Per sintesi, io utilizzerò questi termini giornalistici per facilitare la comprensione, naturalmente. È facilmente intuibile perché la banda venne battezzata così, anche se vedremo che poi utilizzarono diverse altre vetture in parecchi episodi. Abbiamo varie fasi e affronteremo varie fasi, criminali e quindi processuali. In un primo tempo esamineremo alcuni episodi riconducibili alla cosiddetta banda della regata, altro veicolo che caratterizzò la fase degli assalti, delle rapine, ai caselli autostradali. Successivamente a questi episodi criminosi vedremo che si verificarono almeno tre assalti a dei supermercati COP di questa città e da qui, sempre per sintesi giornalistica, tale banda venne definita la banda delle COP. Poi analizzeremo altri episodi di sangue, dove appare per la prima volta e poi in modo drammaticamente martellante questa benedetta Fiat Uno Bianca. Dopo questa fase cruenta, molto cruenta, analizzeremo un'altra fase, che poi è la fase terminale o discendente del fenomeno, e cioè quella degli assalti o delle rapine ad istituti di credito con raggiungimento di profitto, di bottino, direi senza spargere la benché minima goccia di sangue. Vedremo come questo cono logico si rovesci nella fase antecedente, tanto sangue o per nulla o per poche migliaia di lire. A questo punto vi leggerei pochissime righe del senatore Libero Gualtieri, che ha curato la prefazione ad un libro che si è occupato della banda della Uno Bianca. Il senatore Gualtieri, e dico subito che è un pensiero che condivido, dice che vi è una netta separazione tra il primo periodo, quello caratterizzato dalle rapine e caselle autostradali, quello centrale, più propriamente terroristico, dell'uccisione dei carabinieri e degli attacchi ai campi nomadi, e l'ultimo, quello dei colpi alle banche. Sembra quasi che abbiano operato tre bande diverse, oppure che alla banda siano stati assegnati compiti nel tempo diversi. Sottolinea ancora il senatore Gualtieri la non necessità delle uccisioni, che gli autori di questi reati, i poliziotti della banda della Uno Bianca, non hanno mai sparato per aprirsi la strada verso l'obiettivo, né per proteggersi la fuga, sparavano per uccidere. Sembra che solo questo importasse loro, più ancora del bottino. Gli omicidi eseguiti e quelli tentati sono stati, nella quasi totalità, sproporzionati all'economia dell'azione in corso. Sono stati commessi sempre per eccesso, indifferenti alla reazione che tanta ferocia avrebbe provocato. E qui il senatore Gualtieri chiosa una reazione che doveva esserci, ma che non c'è stata. Questa è l'opinione del senatore Gualtieri. Metodologicamente, io vi esporrò per grandi linee la vicenda criminale. Successivamente andremo ad esaminare, senza però entrare nel dettaglio dinamico di ciascun fatto delittuoso, e credo che ciò sia facilmente intuibile, in quanto oggi io vi parlerò di episodi che affronteremo in quest'Aula tra svariati mesi. Comunque vi fornirò, diciamo così, quegli elementi fondamentali per comprendere il fatto del quale ci occuperemo. Poi, se la Corte d'Assise sarà d'accordo, e se i difensori saranno d'accordo, ogni qualvolta affronteremo partitamente ciascun episodio, prima di introdurre i testi, potrei ricapitolare sinteticamente, come in un normale processo, diciamo così, nucleare rispetto all'attuale, la dinamica dei fatti. Bene. Chi vi parla? La notte del 28 novembre 1994, vale a dire sei giorni dopo l'arresto di Roberto Savi, e poi parleremo diffusamente dell'arresto di Roberto Savi, si recò presso il carcere militare di Peschiera del Garda per interrogare il detenuto. Chiariamo subito che Roberto Savi venne tratto in arresto in Bologna, in flagranza di reato per illegale detenzione di numerose armi da fuoco, meglio descritta nel verbale di sequestro che avete agli atti. Bene, fu un interrogatorio che iniziò in mattinata e poi si protrasse per lunghe ore, dieci o dodici se non erro. Ad un certo punto, perché è bene chiarire sin da subito che in un primo momento il Savi, benché stimolato in tal senso, in un primo momento il Savi, benché stimolato in tal senso con, diciamo così, prospettazioni che lo rendevano compatibile come uno degli autori dei fatti criminosi non è che negasse ogni sua responsabilità, si limitava a non rispondere in merito ammettendo solo la detenzione delle armi che d'altra parte erano state trovate nel suo garage e nella sua abitazione. Diceva, ad un certo punto il Savi mi disse tutto cominciò al casello di Pesaro, casello autostradale di Pesaro. Vi confesso che questa frase mi è rimasta come impigliata nella memoria, perché essa poteva rappresentare come dire semplicemente l'inizio di una storia criminale come tante, come mille altre. Invece era solo la premessa ad una vicenda che per quasi otto lunghe ed interminabili anni ha rappresentato una tragedia per innumerevoli persone, per le loro famiglie e per città intere. Vi metto subito di fronte ai numeri, ai crudi numeri di questa storia. Strage della stazione di Bologna a parte e omicidi per così dire in serie riconducibili a contesti mafiosi questo processo affronta un bagno di sangue senza precedenti nella nostra storia nazionale per numero di vittime uccise o ferite complessivamente considerate. I signori della banda della Uno Bianca e i loro complici ancora non identificati hanno ucciso con modalità bestiali efferate gratuite inumane 24 persone preciso subito giuridicamente sia a Pesaro che a Rimini che di fronte a voi questi soggetti hanno risposto e risponderanno di 22 omicidi io moralmente ritengo che possiamo ritenerli responsabili di 24 perché due persone sono decedute successivamente a fatti criminosi allora scrivibili una in Romagna e un cliente dell'ufficio postale di Via Mazzini assaltato dalla banda poi ci occuperemo nel dettaglio le perizie hanno escluso il nesso di causalità tra le ferite lo shock e l'evento però credo che ognuno può esprimere il proprio convincimento tornando sul terreno più squisitamente giuridico di questi 22 omicidi gli altri due li abbiamo per così dire archiviati ben 17 sono stati commessi nel circondario di Bologna nel medesimo circondario e è sufficiente scorrere i capi di imputazione i signori della 1 bianca hanno commesso 33 tentati omicidi ferendo in tal modo circa 100 persone ci sono ferite lievi meno lievi c'è gente che è ancora nel polmone d'acciaio l'efferatezza la crudeltà usata da questi uomini è tale ed è stata tale da fare rabbrividire per rispetto delle vittime e dei familiari delle stesse non chiederò che vengano mostrate fotografie ma sin da ora vi chiedo a voi giudici di questa corte d'assise di guardarle quelle fotografie quando sarete in camera di consiglio anche prima del momento decisorio crimini da far rabbrividire dicevo con metodologie criminali però per così dire a pelle di leopardo abbiamo zone chiare e veri e propri buchi neri delitti commessi in maniera inspiegabile insondabile razionalmente nebulosi giustificazioni e moventi forniti dagli imputati irrisibili che però hanno colpito nella carne e nell'animo tantissime persone c'è attesa per questo processo tra i familiari c'è una grande attesa io non so se riusciremo a dare le risposte che si cercano cerchiamo di farlo con quella pazienza cui ho fatto cerno prima ci saranno momenti di stanchezza è chiaro il materiale è sterminato credetemi allora questo è il contesto criminale nel quale ci muoviamo su questo contesto criminale noi innestiamo perché dobbiamo farlo naturalmente non facciamo sociologia o cronaca giornalistica i riscontri le prove che adesso diciamo così a volo radente sottopongo alla vostra attenzione innanzitutto le confessioni degli imputati soprattutto Savi Fabio e Savi Roberto poi parleremo anche degli altri questo è un argomento molto delicato perché ad un certo punto queste confessioni che sono state rese in maniera assolutamente spontanea e questo è bene chiarirlo sin da subito per sgomberare il terreno da qualsiasi dubbio perplessità o illazione presente o futura dico spontanea perché quella notte del 28 novembre 94 cui ho fatto riferimento all'inizio mentre questo pubblico ministero interrogava Roberto Savi altri pubblici ministeri del mio ufficio in altro carcere in quel di Tolmezzo voi vi spiegherò perché siamo finiti anche a Tolmezzo interrogavano Fabio Savi il fratello di Roberto giornalisticamente definito il lungo ebbene chi vi parla in quel periodo neppure sgambettava in questa indagine nel senso che si era occupato per questione di turno interno al mio ufficio della vicenda relativa alla convalida dell'arresto e all'interrogatorio svolto dal GIP di Bologna quindi quando il signor Roberto Savi in maniera pressoché torrenziale cominciò a raccontare quello che aveva commesso vi confesso che tanti tantissimi episodi io neppure li conoscevo addirittura voi non potete vederli ma li vedrete sempre che non ci siano conferme alle confessioni che mi impediscano le contestazioni addirittura forse ci saranno degli errori nei cognomi in qualche dato in qualche luogo perché questo pubblico ministero seguiva pedisseguamente il percorso criminale imboccato il racconto del percorso criminale imboccato da Savi Roberto quindi fissiamo subito tra le pietre miliari dell'accusa le confessioni di Roberto Savi spontanee univoche reiterate riscontrate successivamente dalle dichiarazioni rese dalle donne della banda della Uno Bianca anche questi sono nomi in parte noti c'è sempre un eccesso di notorietà immeritata Eva Micula in parte meno noti Maria Grazia Angelini moglie di Savi Fabio Anna Maria Ceccarelli moglie di Savi Roberto quindi mentre il Savi Roberto devo dire sinceramente perdonatemi qualche brevissima digressione ma è la prima volta che si può parlare e si deve parlare forse anche un minimo delle impressioni credo che nella fase della relazione visto il cammino che ci aspetta mi può essere concesso devo dire che ricordo lo sguardo di quest'uomo uno sguardo freddo impassibile ma attenzione non assente non stiamo parlando di un pazzo sgomberiamo subito il terreno anche da ciò oserei dire quasi allenato a non tradire emozioni probabilmente per carattere non vogliamo con questo insinuare alcun che sia ben chiaro allora mentre Savi Roberto confessava 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 alla fine verbalizzammo quella notte ero io un funzionario di polizia un ispettore e l'allora difensore d'ufficio verbalizzammo 22 o 23 omicidi uscimmo alle 3 del mattino c'era una gran nebbia anche quella notte allora mentre Savi Roberto confessava nell'altro carcere io naturalmente informo i colleghi che stanno svolgendo l'interrogatorio di Savi Fabio e gli dico guardate che qui la diga si è rotta questo dice tutto a quel punto venne fatto presente al Savi Fabio quello che stava succedendo e Savi Fabio confessò anche egli parecchio molto altra pietra miliare dell'accusa non abbiamo assolutamente la possibilità di consentire a nessuno né lo consentiremo di infisciare la genuinità di questi due verbali di interrogatorio fatti contestualmente da persone diverse in contesti territoriali territoriali assolutamente distanti l'uno dall'altro abbiamo anche le confessioni di altri imputati perché naturalmente questo processo esistono esistono anche altri tre imputati che sono Alberto Savi detto Luca è importante perché in alcune dichiarazioni soprattutto della signorina Eva Micula lei ci indicava questa persona come Luca e siccome in una certa fase delle indagini noi abbiamo arrestato anche tale Vallicelli Luca altro poliziotto del quale oggi non ci occupiamo poi vi spiegherò in sintesi la sua posizione potete immaginare che avevamo anche un po' di confusione per un certo periodo quindi ci occupiamo di Savi Alberto detto Luca di Gugliotta Pietro e Marino Occhi Pinti a questo punto il quadro è completo sono cinque imputati dei quali quattro hanno vestito la divisa della Polizia di Stato per lunghi anni diciamo subito che il Savi Alberto anche egli ha contestato altri due episodi efferatissimi l'ecidio avvenuto al quartiere Pilastro l'ecidio nel quale vennero truscidati tre carabinieri e l'ecidio accaduto in Castelmaggiore nel 1988 l'ecidio nel quale vennero truscidati altri due giovani carabinieri su questi fatti Alberto Savi ha sempre dichiarato la propria totale estraneità gli elementi a suo carico noi li desumiamo dalle chiamate in corretà incrociate dalle dichiarazioni delle donne dal fatto che in entrambi gli episodi venne usata una pistola a tamburo colto se non sbaglio le armi sono tantissime che all'epoca era detenuta dal signor Savi Alberto Gugliotta Pietro Gugliotta Pietro ha confessato alcuni episodi ma solo incruenti noi gli contestiamo anche episodi cruenti quali ad esempio sempre l'assalto alle poste di Via Mazzini e per lui valgono le considerazioni svolte per Alberto Savi e il tentato omicidio di un soggetto di una persona extracomunitaria tale Driss Akesbi vicenda di sangue incomprensibile poi in due battute ve la sintetizzerò quando cronologicamente verrà il suo turno che però in una certa ricostruzione fornitaci dai da Savi Fabio e Savi Roberto rappresentò la cosiddetta prova del fuoco che cos'è la prova del fuoco nella fase in cui questi personaggi parlavano ci spiegarono che la prova del fuoco altro non era che una come sottende il termine e i termini come sottendono i termini usati una sorta di prova di coraggio e di abilità se vuoi entrare a tra virgoletta lavorare con noi dimostraci che riesci a sparare addosso ad un disgraziato inerme che sta lì che vive la sua vita bella o brutta che sia e che ha la sfortuna di incontrare dei delinquenti come noi e questa è la prova del fuoco chiaramente Ugliotta Pietro ha sempre negato qualsiasi responsabilità in ordine a questo fatto Occhi Pinti Marino processualmente la posizione del signor Occhi Pinti Marino è allo stato delle indagini diversa dal contesto perché il signor Occhi Pinti ha risposto in sede di giudizio abbreviato poi vi racconterò di un fatto incruento una rapina a un casello autostradale poi è stato invece arrestato ed è detenuto per questa causa per un fatto estremamente cruento l'assalto ad una cop con uso di esplosivo che si concluse con l'omicidio di una guardia giurata di nome Beccari No, 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 no per cortesia Quali sono gli elementi a carico No, chi parla e interviene dal pubblico dovrà essere espulso dall'aula Presidente le chiedo scusa a nome dei miei assistiti ma sono il papà e la mamma di Beccari le chiedo scusa quali sono gli elementi a carico dell'ex agente di polizia Occhi Pinti Marino vabbè prima di tutto le chiamate in corretà incrociate e reiterate l'essere assente dal servizio la sera del fatto poi vi produrrò una massa vi chiederò di acquisire una massa di documenti tra i quali anche la sintesi di tutte le assenze dal servizio degli imputati naturalmente per evitare qualsiasi dubbio circa la presenza di alibi che ovviamente sono stati attentamente vagliati ed esclusi per ciascun episodio l'Occhi Pinti quella sera era assente dal servizio per la verità era assente dal servizio da diversi giorni l'uso di un fucile a pompa calibro 12 che il signor Marino Occhi Pinti acquistò o forse ritirò è più giusto dire così da un'armeria di Bologna quattro giorni dopo quindi in data 8 febbraio 88 quattro giorni dopo un assalto ad un casello autostradale avvenuto il 4 febbraio 88 da lui ammesso confessato e per il quale è stato già condannato la consulenza tecnica o perizia che impropriamente dir si voglia ci ha detto che quel fucile da quel fucile sono partiti i colpi mortali che hanno attinto e ucciso il povero signor Beccari ma c'è di più sia Roberto Savi che la di lui moglie Ceccarelli Anna Maria ci dicono che naturalmente uno per scienza diretta e l'altra del relato l'occhi pinti quella notte quella sera sbagliò tutto fece una gran confusione non si attenne diciamo così al piano e alle disposizioni noi potremmo aggiungere venne preso da da ansia ebbe uno shock non lo sappiamo certo è che ci venne detto all'epoca che il signor occhi pinti dopo questo fatto subì un trauma d'ordine psicologico noi modesti investigatori siamo andati a cercare lo psichiatra che ebbe a curare in quel periodo l'occhi pinti l'abbiamo trovato è in lista testi non ha eccepito il segreto professionale ci ha solo confermato che in quel periodo il signor marino occhi pinti era in cura e prese dei farmaci forse degli anziolitici degli antidepressivi direi che è l'interfaccia alle dichiarazioni questo riscontro rappresenta l'interfaccia delle dichiarazioni di roberto savi riscontrate appunto da questo accertamento bene questo è il quadro probatorio per quello che riguarda le confessioni veniamo alle ritrattazioni ad un certo punto i giornali ne hanno parlato anche perché prima di questo processo se ne sono celebrati già altri due ad un certo punto senza apparenti motivi senza apparenti giustificazioni come un fulmine a ciel sereno Roberto e Fabio Savi ritrattano noi non ci sorprendemmo più di tanto le ritrattazioni erano tutto sommato messe nel conto ed erano prevedibili peccato però che le stesse sono fumose estemporanee assolutamente povere di qualsiasi costrutto probatorio in negativo naturalmente a favore loro il signor Savi Roberto ci introduce per la prima volta nella primavera scorsa il concetto di affitto di armi loro lui avrebbero affittato le armi possedute in quantità industriale poi vedremo se ci furono controlli per verificare qualcosa perché aperta parentesi brevissima il 99% delle armi in sequestro erano legalmente detenute allora dicevo introduce questo concetto dell'affitto di armi non ci dice a chi non ci dice come non ci dice quando non ci dice nulla noi diciamo a lui che anche l'affitto di armi visto l'uso che ne veniva fatto e considerato che non si trattava di episodi isolati non esime certo da responsabilità penale per le accuse da ergastolo che sono state loro contestate quindi dicevo che queste virate processuali assolutamente prevedibili scontate sono goffe lacunose non ci aiutano in nulla laddove dove non ci aiutano in nulla non ci aiutano in nulla a ricercare non una verità ma la verità che il mio ufficio da un anno e mezzo si affatica a ricercare in più riprese nel corso di numerosi interrogatori al signor Savi Roberto Savi Fabio un po' a tutti è stato detto a chiare lettere e ci sono i verbali trascritti che la procura di Bologna senza pregiudizio alcuno senza tesi precostituite che non fossero quelle emergenti in modo schietto e nitido dalle carte era e ci precostituite che non fossero quelle emergenti in modo schietto e nitido dalle carte era ed è ancora oggi chiaramente disposta a verificare con scrupolo obiettività e coraggio ogni nuovo spunto ogni nuova novità ogni possibile movente che gli imputati vorranno sottoporre alla nostra attenzione però senza teatralità senza convenienze o ragionamenti di piccolo piccolissimo capotaggio processuale è chiaro che la posta in gioco è troppo grande per ammettere simili bassezze processuali devo dire comunque che ciò non significa che noi attendiamo o abbiamo mai atteso per muovere i nostri passi le parole di Savi Roberto Savi Fabio Gugliotta Pietro Chi Pinti Marino o Savi Alberto abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare essendo aperti ancora due procedimenti a carico di ignoti e nel nostro piccolo stiamo ricostruendo alcuni tasselli che per certi episodi nodali della vicenda criminale non è che siano proprio del tutto insignificanti ve ne parlerò al momento opportuno continuiamo con i riscontri vi ho parlato delle confessioni vi ho parlato delle ritrattazioni vi ho accennato alle donne di questa banda e vediamolo un po' Eva Edit Micula posso? Presidente forse sembra che divaghi ma è fondamentale grazie Eva Edit Micula una cittadina ungherese che arrivi in Italia non si capisce bene se nel 91-92 c'è un'improvvida correzione su quel verbale al quale peraltro lo presenti anch'io ma alle 4 del mattino può capitare si mette come il signor Fabio Savi ci racconta di aver avuto una vita disgraziata è nata in Romania ha fatto forse la prostituta incontra Budapest Fabio viene in Italia inizia a convivere con lui vede le armi sa tutto pressoché da subito tasce ma si goda i quattrini le indagini arrivano alla conclusione vado proprio per grandi linee poi avremo tempo di parlare di questa signora le indagini arrivano alla conclusione tenta una fuga vengono fermati vicino a Tolmezzo ecco il perché di quell'interrogatorio fatto a Tolmezzo hanno una pistola poi vedremo che pistola è pistola importantissima vengono arrestati la signorina giustamente incensurata per la detenzione patteggia la pena viene messa in libertà viene condotta a Rimini e lì era tanto l'amore che provava nei confronti del signor Fabio Savi che ci inchioda dodici ore a verbale e racconta tutto e per tutto intendo ogni dettaglio criminale appreso da Fabio e qualche volta forse da Roberto stando naturalmente ben attenta ad escludere qualsiasi sua eventuale corresponsabilità ci stiamo lavorando Ceccarelli Anna Maria è la moglie di Roberto Savi ed è al pari di Eva Edith Micula teste d'accusa fondamentale questo è un teste vero la Eva Edith Micula è persona che con brutto termine chiamiamo tra addetti ai lavori imputest cioè persona che ha avuto delle imputazioni in quelli di Rimini venne arrestata per un'arma codetenuta con Fabio quindi noi la sentiremo sempre ex articolo 210 con le garanzie difensive la Ceccarelli invece test è vero si avvalsa ha dichiarato subito di non avvalersi dalla facoltà di non rispondere essendo moglie dell'indagato e ci ha fornito moltissime dichiarazioni con molti riscontri in relazione ad episodi nodali come ad esempio la strage del pilastro qualcosa ma molto meno ci dice Angelini Maria Grazia che è la moglie di Fabio Savi comunque queste tre donne ci consentono di ricostruire attraverso fatti attraverso il racconto di fatti da loro appresi in passato per così dire il tessuto connettivale probatorio sul quale poi innesteremo altri riscontri quali sono questi altri riscontri? beh le consulenze balistiche vi accennavo prima che a questi signori soprattutto a Fabio e a Roberto è stato sequestrato un vero e proprio arsenale l'arresto di Roberto Savi è avvenuto la sera del 22 novembre 1994 a Bologna in via Signorini zona Vittoria è importante anche la collocazione delle strade dicevo siamo in presenza di soggetti appassionati di armi che compravendono armi in maniera frenetica e lo dimostreremo con le documentazioni relative alle denunce da loro via via nel tempo presentato di queste armi alcune convinti dell'impunità riteniamo noi le usano spudoratamente per fatti gravissimi voi sentirete parlare fino alla noia fino alla nausea in questo processo di calibri numeri armi corte armi lunghe mitragliette ma i calibri che ricorreranno di più sono i seguenti parleremo spessissimo mi limito alle pistole parleremo spessissimo di 357 Magnum smith wesson è un pistolone a tamburo di proporzioni cospicue che esplode ovviamente il munizionamento relativo il 357 può però esplodere anche il calibro 38 che è un munizionamento leggermente più piccolo vedremo che la cosa ha una sua rilevanza quando parleremo di depistaggi avvenuti nell'ambito di alcune indagini delicatissime complessissime in ordine alle rapine alle copp di Bologna sempre stiamo parlando di un revolver a tamburo sempre per rimanere alle armi parleremo fino alla nausea di beretta 9x21 pistola beretta 9x21 in buona sostanza si tratta di quella pistola che tutti noi abbiamo visto ciascuno di voi avrà sicuramente visto perché è identica cambia solo il calibro a quella in dotazione alle forze dell'ordine quindi o in un film o in un servizio su strada che potreste aver notato in qualsiasi momento della vostra vita parliamo di quella pistola importantissimo calibro pistole fondamentali perché due di queste armi vennero rapinate presso l'armeria Volturno di Bologna e anche qui la strada è importante perché si tratta di una strada incastonata nel cuore storico della città che poteva servire a tutto meno che a farvi una rapina perché le possibilità anche solo allo stato potenziali di essere incastrati da una pattuglia di vigili urbani con tutto il rispetto per i vigili urbani che però non fanno polizia di prevenzione tipica erano elevatissime e poi vedremo quali giustificazioni ci daranno questi signori perché ancora non vi ho detto che per rapinare due nove per ventuno che potevano liberamente acquistare i signori Roberto e Fabio Savi hanno ammazzato due persone signori Ansaloni Licia e Capolungo Pietro poi parleremo di armi lunghe perché in questa storia molti episodi sono cadenzati dall'esplosione di colpi provenienti da fucili d'assalto o ritenuti fucili d'assalto per un certo periodo calibro 222 o 223 Remington attenzione anche qui il discorso poi lo affronteremo in dettaglio diciamo subito che il calibro 222 è il calibro è il calibro civile cioè io vado in armeria se ho il porto d'armi oppure il nulla osta della questura e mi compro un fucile calibro 222 ad esempio un Beretta AR70 altra sigla che ricorrerà ossessivamente in questa vicenda io non posso andare in armeria e comprarmi ad esempio un calibro 223 o comunque altro numero che dir si voglia perché la materia è estremamente complessa non vi voglio tediare perché si tratta di un calibro militare quindi quel modello è in uso soltanto alle forze armate o corpi speciali delle stesse e non è in libera vendita parimenti in libera vendita non sono le munizioni che ineriscono a questo calibro guarda caso però ad un certo punto della nostra storia saltano fuori delle munizioni 223 che verranno abbandonate in una vettura incendiata della quale parleremo dopo quindi abbiamo le consulenze balistiche che ci dicono pressoché tutte sono tantissime siamo in attesa ancora di un paio che ci devono essere depositate ci dicono tutte con assoluta certezza che per ogni episodio delittuoso per ogni fatto di sangue conclusosi o con omicidi plurimi singoli o plurimi tentati omicidi hanno sempre sparato certe armi poi le vedremo nel dettaglio in pratica sparano comunque sempre due pistole a tamburo calibro 357 magnum o python spara sempre in un drammatico terribile io non ero a Bologna in quel dicembre naturalmente risedendo altrove ma deve essere stato veramente terribile vivere in questa città in un drammatico terribile dicembre 1990 cadono un numero di persone che poi andremo a quantificare tali da far ritenere che Bologna in quel periodo fosse oggetto di un attacco di tipo paraterroristico e nel corso di questi attacchi viene sempre utilizzato o quasi sempre utilizzato quel fucile 222 Remington del quale vi ho parlato sinteticamente prima e che poi o meglio si ritiene che venga sempre utilizzato un fucile calibro 222 Remington poi scoperte le armi fatte le perizie ragionato sul tutto si scopre che sparano due fuscili 222 calibro 222 Remington che sono un AR 70 detenuto da Savi Roberto il quale con un escamotage tentò di allontanare da sei sospetti poi lo vedremo stiamo parlando di armi legalmente detenute quindi gli escamotage erano consentiti e un altro calibro 222 Remington che si chiama Manurin o qualcosa del genere Sig Manurin che venne rinvenuto in possesso di Savi Fabio la Eva Micula sul punto è categorica ci dice che il Savi Fabio deteneva questo fucile glielo descrisse prima lo guardò lo vide lo rivide memorizza il colore verde e vedrete voi in un enorme fascicolo fotografico che vi produrrò che il colore di quest'arma corrisponde eccetera eccetera quindi le consulenze tecniche ci dicono che tutte le armi rinvenute nella disponibilità dei fratelli Savi hanno sparato in tutti gli episodi loro scritti ad un certo punto entrano in scena quelle due pistole rapinate presso l'armeria Volturno di Bologna quelle due nove per ventuno queste due armi stranamente o comunque non stranamente diciamo così oggettivamente va sparano per lunghi mesi pressoché esclusivamente in Romagna su Bologna prendono a sparare nella fase direi discendente pressoché terminale della vicenda delittuosa vengono rinvenute una in possesso di Roberto presso la sua abitazione di via Signorini una ce l'aveva Fabio in quel dito il mezzo entrambe hanno il numero di matricola interamente trapanato bucato è stato assolutamente impossibile tentare di ricostruire qualcosa circa i dati identificativi ma attraverso un lavoro che più o meno è stato fatto sui registri dell'armeria Volturno abbiamo la certezza che queste due armi provengano da lì poi abbiamo tutta una serie di riscontri diciamo così di più modesta portata nel senso che sono riferibili alle vicende considerate nella loro atomizzazione cioè a singole vicende chiaramente messa nel calderone dei riscontri non potranno che riflettere in maniera diretta i propri effetti probatori anche sulle altre vicende per l'assalto alle poste uno degli autori cioè Roberto Savi rimane ferito a un gluteo forse schegge di vetro poi vedrete le modalità terribili eh lì usa un esplosivo crolla tutto non ci abbiamo i morti boh non abbiamo mai capito perché allora rimane ferito ad un gluteo si siede su una vettura si accomoda su una vettura che sarebbe la seconda vettura se non erro una passata su questa vettura successivamente vengono trovate delle macchie di sangue viene ritagliato il viene ritagliata la stoffa queste macchie vengono analizzate a suo tempo con il procedimento a carico di ignoti abbiamo la certezza che si tratta di sangue umano accertamento non distruttivo per le difese o meglio distruttivo in parte ma la macchia era grossa dopo l'arresto dei savi ci siamo occupati di mille cose non più di un paio di mesi fa ci siamo occupati anche di questa abbiamo fatto il nostro bel esamino del dna ed abbiamo avuto una risposta pressoché certa che il sangue rinvenuto su quel sedile è il sangue di Roberto savi e questa è fatta poi nel corso di un episodio terribile l'omicidio di un ragazzo Massimiliano Valenti su una vettura usata dagli assassini venne trovato un biglietto dell'ATM un biglietto dell'ATM dell'azienda trasporti municipale di Catania che sul momento naturalmente indusse a ritenere e a fare alcune ipotesi investigative facilmente intuibili rapinatori in trasferta o quant'altro sia ben chiaro noi a tutt'oggi non escludiamo nessuna ipotesi ragiono soltanto per ora sui dati obiettivi in mio possesso questo biglietto rimane per parecchio tempo tra le carte processuali fin tanto che dopo l'arresto Roberto Savi e via via anche gli altri ci introducono quello che poi chiameremo il capitoletto dei pistaggi cioè loro cercavano di sviare le indagini portando o verso il sud o verso quartieri un po' malfamati di questa città Leggi Pilastro quindi mettendo quella quel biglietto dell'ATM di Catania loro signori lasciavano supporre che si trattasse di catanesi in trasferto ripeto tutto può essere però rimane il fatto che sempre un paio di mesi fa rivedendo queste carte ci accorgiamo che su quel biglietto venne evidenziata venne come si dice esaltata una impronta a palmare in un primo tempo la polizia scientifica ci disse che c'erano dei problemi per la comparazione perché l'impronta non era utile alle indagini siccome siamo un po' testardi abbiamo insistito e modificando soggettivamente ed oggettivamente il referente tecnico abbiamo avuto come risposta che l'impronta a palmare rinvenuta su quel biglietto a TM di Catania è quella di Pietro Gugliotta se andate a cercare il nome di Pietro Gugliotta tra gli imputati e l'omicidio valenti non lo trovate vi spiego il ragionamento che abbiamo fatto se su quel biglietto noi avessimo trovato soltanto l'impronta di Pietro Gugliotta era pacifico che sarebbe stato imputato trattandosi di depistaggio trattandosi quindi di attività successiva e non avendone confronti del signor Gugliotta nessuna chiamata in reità o con reità né da parte di soggetti processualmente imputati né da parte di terze persone sarebbe stato un po' ardito imputarlo per il sol fatto di aver contribuito ad un depistaggio ma c'è di più ci sono delle impronte per così dire strisciate non utili ma sicuramente riconducibili ad altre mani che ci lasciano supporre che il Gugliotta potrebbe dopo essersi inavvertitamente poggiato su quel biglietto averlo posto successivamente su quella vettura senza aver concorso nel fatto criminoso ma attenzione questo elemento se non ci ha consentito di imputare il Gugliotta per l'episodio di cui stiamo parlando ci consente di ritenere il Gugliotta associato perché c'è un capo di imputazione per associazione non dimentichiamolo mai per tutto l'arco temporale di durata del consorzio criminale visto che nel 93 quando viene ammazzato il povero Valenti il signor Gugliotta oggi terribilmente prostrato si presta o mette direttamente questo benedetto biglietto poi abbiamo le assenze dal servizio di tutti gli imputati escluso Fabio Savi che ovviamente è un civile in concomitanza con gli episodi delittuosi vi produrremo quando poi andrò ad elencare partitamente la lista documentale i riscontri a ciò che vi sto dicendo non c'è episodio che veda l'imputato presente in servizio poi abbiamo e questo direi che è proprio un lavoro che abbiamo concluso e stiamo concludendo in questi giorni abbiamo parecchie individuazioni di persone cioè ripercorrendo tutti gli episodi con un lavoro un po' certosino abbiamo cercato i testi di allora i collaboratori di quel gruppo formato dalla procura si sono impegnati al massimo hanno sentito decine di persone e senza forzatura alcuna ovviamente perché abbiamo anche tante non individuazioni mi sembra chiaro senza forzatura alcuna abbiamo dieci dodici individuazioni certe per fatti importanti per fatti meno importanti ma comunque in ogni caso che ci consentono di far riverberare la compresenza o la presenza degli imputati in loco per fatti ascrivibili ai loro comportamenti complessivi anche in relazione a fatti più gravi comunque stiamo parlando di un'individuazione certa di Fabio Savi ad esempio per l'omicidio del povero signor Pari De Pedini poi lo affronteremo parliamo di individuazioni certe per alcune rapine in banca parliamo di individuazioni certe per alcuni ferimenti devo dire per la verità che quello che viene più spesso riconosciuto è Fabio non c'ha come dire fatto l'onore della sua presenza però è sicuramente un signore alto corpulento che guarda caso da sempre porta un paio di occhiali con una montatura particolare vedremo attraverso le centinaia di testimonianze che purtroppo vi devo sottoporre come questo particolare ricorrerà e come questo particolare ha consentito a gente onesta e coraggiosa di dirci oggi di riconoscere Fabio Savi purtroppo qualche volta sarò costretto a dimostrarvi l'individuazione del relato cioè attraverso la testimonianza dell'ufficiale di PG che ha assunto il mancato riconoscimento ma poi ha assunto la chiamiamo la confidenza di colui o colei la quale dice si l'ho riconosciuto ma c'ho paura a verbalizzarlo capita abbiamo anche e non mi permetterei mai di parlare di individuazioni di persona però abbiamo anche due come vogliamo dire semi individuazioni sarà brutto ma rende l'idea sotto il profilo diciamo delle caratteristiche somatiche addirittura per la strage del pilastro poi la affronteremo poi come riscontri documentali abbiamo le somme di denaro depositate sui conti correnti dunque vi ho letto le parole del senatore Gualtieri non è che prima della terza fase questi proprio quattro bagliocchi non li hanno messi assieme diciamo che hanno pensato un po' di più al loro futuro nell'ultima fase ma del denaro lo hanno raccattato anche negli anni precedenti allora voi vedrete e anche questo è stato un certosino lavoro svolto dall'unità operativa interforse costituita dal mio ufficio che in questo volumetto detto subito che c'è una sproporzione spaventosa tra il cento uno i redditi da cento uno si tratta di tutti i dipendenti pubblici salvo Savi Fabio che faceva il camionista avrebbe dovuto fare il camionista c'è una sproporzione spaventosa tra la movimentazione bancaria i versamenti che abbiamo preso in considerazione solo quelli incontanti e i redditi da lavoro ma soprattutto c'è di più in concomitanza o meglio nell'immediato momento successivo o nel periodo immediatamente successivo a certe rapine fruttuose chi più chi meno versa incontanti e versano poi c'è un altro aspetto questo non lo troverete negli accertamenti bancari ma è fondamentale lo troverete nei verbali di sequestro soprattutto nel verbale di sequestro del signor Roberto Savi quella notte quella sera il 22 novembre 94 tra le altre cose armi esplosivo parrucche detonatori micce e chi più ne ha più ne metta viene trovata anche una valigetta questa valigetta viene aperta e dentro ci sono 200 milioni incontanti purtroppo nella concitazione del momento io ho solo la somma non ho i numeri di serie quindi non vi potrò mai dire se era denaro come dire già maneggiato se era denaro che era uscito ad esempio dalla zecca che ne so un mese due mesi tre mesi prima se era denaro segnato da qualche parte ci sono ancora archivi nella concitazione del momento è stato depositato e abbiamo soltanto come dire il dato numerico quantitativo 200 milioni credo in banconote da 100 mila ma non so nemmeno questo non sappiamo se sono provento di qualcosa ad un certo punto il savi dice che erano il prezzo di attività da lui svolte ma sul punto avremo modo di ritornare ecco questi sono i risconti ma che cos'è la banda della uno bianca adesso vi devo un po' raccontare il modus operandi di questa banda nasce come banda della regata non ci torno sopra fanno rapine ai caselli e vengono battezzati così perché in gran parte dei fatti viene usata una vettura regata incidentalmente vi dico che nell'85 86 87 Alberto Savi guarda caso aveva una vettura di quel tipo una Fiat regata poi ci sono gli assalti alle copp e noi ci occupiamo in questo processo degli assalti alla copp di via Gorki dell'assalto alla copp di via Massarenti e dell'assalto alla copp di Casalecchio cui ho fatto cenno prima qui bisogna aprire una parentesi questo è un processo difficile sotto tanti aspetti e uno di questi è che in qualche modo in questa vicenda interferiscono altre vicende processuali come immagino saprete se non lo sapete mi riferisco ovviamente ai non togati e se non lo sapete ve lo vengo a raccontare io sia per la vicenda degli assalti alle tre copp che vi ho detto che per un altro fatto cioè l'accidio del pilastro in questa città davanti ad altre corti d'assise sono stati celebrati due processi il primo quello che riguarda le copp è stato celebrato il primo in secondo grado cioè in corte d'assise in corte d'assise d'appello il giudizio era pendente in Cassazione arrestano i savi dicono siamo noi la banda delle copp ci sono passaggi procedurali che vi risparmio comunque la Cassazione annulla con rinvio parte di quelle sentenze parte di quella sentenza e quindi oggi nell'aula di corte d'assise d'appello di Bologna dovrà essere celebrato il processo di rinvio a carico di soggetti che sempre per sintesi giornalistica vennero all'epoca definiti la cosiddetta banda dei catanesi è un bel problema perché i catanesi sono stati condannati in primo grado in appello per fatti che oggi noi ascriviamo ai savi perché ce li hanno confessati perché abbiamo dei riscontri balistici e perché abbiamo quella serie di elementi cui ho fatto scendere in precedenza poi abbiamo l'eccidio del pilastro quella notte vennero uccisi tre carabinieri poi vedremo come con quali modalità con quali vicende diciamo così ricostruttive potremmo introdurre questo argomento qui dopo un po' di tempo circa un anno più o meno dal fatto chiedo scusa se erro di qualche mese ma può capitare le indagini imboccano una pista forte molto forte ritenuta in quel momento molto forte vengono arrestate delle persone e viene celebrato un processo che affaticò altra corte d'assiste di questa città per un anno e qualcosa non vi spaventate comunque è vero che oggi il processo del pilastro rappresenta uno dei tanti episodi cercheremo comunque di essere più rapidi vennero arrestate quattro persone me da Marco Motta Massimiliano e Peter e William Sant'Agata questi ultimi tre soggetti abitanti al pilastro quartiere periferico di Bologna il processo era ormai in una fase non dico conclusiva comunque era avviato verso la conclusione quando deflagra letteralmente la bomba Savi il 22 di novembre chiaramente ci si rende conto sin da subito che si è messo le mani su soggetti importanti questi confessano il pilastro con una serie di riscontri ne parliamo dopo fatto sta che quel processo subisce di contraccolpia è assolutamente normale si conclude con l'assoluzione salva un'ipotesi diciamo così non rappresentante il nucleo centrale dell'accusa di sangue nei confronti del MED si conclude con l'assoluzione nei confronti di quel processo pendono appelli dichiarazioni di appello sia da parte del mio ufficio che da parte di alcuni difensori quindi vi rendete conto anche delle possibili non dico interferenze perché ogni processo vive del come dire del costrutto probatorio che in esso viene apportato io vi apporterò tutto vi renderete conto che vi sommergerò di documenti se me li ammetterete quindi non ci precludiamo nulla cerchiamo la verità l'ho detto quindi tornando agli anni ai fini anni Ottanta ci sono questi assalti alle copp i Savi ce li confessano e c'è quel processo del quale vi ho parlato poi entra in ballo la 1 bianca cioè si nota che in moltissimi episodi sia a Bologna che nel circondario che in provincia che in Romagna for lì nel Riminese o a più a poco più a sud nel Pesarese ricorrono alcuni dati che sono questi se siete stanchi io interrompo grazie ricorrono allora ricorrono alcuni dati che sono questi il primo è di tipo estetico automobilistico c'è sempre una Fiat 1 quasi sempre di colore bianco ci daranno delle risposte che poi andremo a vedere gli imputati ci daranno delle risposte che poi andremo a vedere dicono e fin qui gli credo vettura che si trova facilmente sul territorio facilmente camuffabile colore anonimo direi che su questo hanno assolutamente ragione uso delle armi perché le consulenze naturalmente venivano fatte allora sulle ogive le ogive sarebbero i proiettili l'altro pezzo della cartuccia si chiama bossolo poi vi dirò una cosa sui bossoli le comparazioni delle ogive consentono di creare un filo e su questo ci siamo messi diffusamente in prova un filo balistico per i tipi di arma 357 9 per 21 222 attenzione il filo noi lo riusciamo a creare gli investigatori di allora riescono a crearlo solo sulle ogive perché di bossoli non ve ne traccia in quanto le pistole a tamburo non lo lasciano lo trattengono al loro interno i fuscili lo lascerebbero ma erano così ingegnosi i fratelli savi che apponevano delle retine raccogli bossoli sul meccanismo di espulsione dell'arma per cui non abbiamo mai trovato un bossolo espulso dalle armi lunghe troviamo i bossoli più in là espulsi dalle 2 9 per 21 rapinate al pilastro rapinate presso l'armeria di via Volturno ma di quelli se ne potevano facilmente disfare perché le armi per così dire erano sporche le altre erano armi pulite erano armi legalmente detenute quindi era un accorgimento non era una originalità era una necessità per garantirsi l'impunità quindi c'è questo filo balistico che collega tutti gli episodi poi c'è il particolare della complessione fisica in molti episodi i testimoni parlano di uno alto e di uno basso i giornali ad un certo punto li indicheranno per sintesi il lungo e il corto il lungo è Fabio il corto non me ne voglia è Roberto le caratteristiche fisiche di Fabio sono abbastanza inconfondibili anche perché ha quel benedetto paio di occhiali che tantissimi testimoni descrivono in periodo non sospetto nell'immediatezza dei fatti come indossato da uno degli autori dei reati che noi ritroviamo sul naso del signor Savi Fabio quando viene arrestato dalle parti di Tolmezzo e che ci serve ancora oggi per poter dire a distanza di anni se lo riconoscono alle persone e parecchie come ho detto lo hanno fatto poi c'è anche la fantasia perché erano fantasiosi nel corso di alcune rapine in banca alcune delle quali concluse senza portarsi via una lira ma lasciando in terra gente morente soprattutto l'ultima i nostri usano delle rice trasmittenti questo è un elemento molto importante per favore i cellulari siate gentili grazie chi ha i cellulari in questa aula? allora i nostri usano delle rice trasmittenti in pratica il gruppo che per le rapine normalmente è composto da Fabio Roberto si scompone nell'ultima fase e i due si tengono in contatto con questi aggeggi aggeggi che poi vengono rinvenuti e che troverete nei verbali di sequestri si tengono in contatto e si chiamano tra di loro con nomi di fantasia tipo Ugo o Gennaro usano inflessioni false inflessioni dialettali guarda caso riconducibili comunque ad aree geografiche meridionali e quindi in tal modo cercano di sviare in maniera un po' goffa perché onestamente sul fatto che è un po' particolare che è conseguenziale a questa attività parlo delle rapine in banca ad esempio chiedono ad alcuni dei presenti cioè chiedono rapinano ad alcuni dei presenti il proprio documento di identità pensateci un attimo ma un'azione terribile uno a quel punto ha consegnato la sua vita ad un delinquente leggendo il giorno dopo sui giornali che quella rapina è ascrivibile alla cosiddetta banda della uno bianca ditemi voi queste persone come hanno vissuto per mesi anche queste sono vittime morali di questa gente comunque rapinano questi documenti e questo è un particolare che ricorre spesso molto spesso non a Bologna ma in Romagna addirittura una volta tornano presso l'abitazione di un soggetto per minacciarlo poi facendo un piccolo piccolissimo passo indietro tornando alla vettura alla uno bianca spesso ovviamente vengono utilizzate vetture del medesimo tipo ma di colore diverso e spesso viene utilizzata altra vettura alfa 33 qualche volta vengono utilizzate vetture di altra marca nel momento in cui queste vetture vengono ritrovate perché la banda disseminava la città ed in particolare il comune di San Lazzaro di vetture rubate otto volte su dieci si apriva il cosiddetto barilotto d'accensione dove praticamente si inserisce la chiave per l'avviamento e veniva ritrovata la scheda magnetica o meglio veniva ritrovata una strisciolina modellata da una scheda magnetica SIP inserita nel barilotto d'accensione e che nel corso di un interrogatorio il signor Savi mi ha diffusamente spiegato modalità di uso e originalità dell'idea vi faccio notare che a mia memoria forse sono non ben informato non ci sono precedenti analoghi nel nostro paese di uso reiterato di banda magnetica quindi erano molto ingegnosi forse c'è un precedente ma non vi riesco non riesco a documentarvelo negli Stati Uniti ma non riuscirò a documentarvelo perché l'ho cercato ma non l'ho trovato comunque questa questa tecnica firma per così dire i furti firma quindi le rapine e gli omicidi nel momento in cui le vetture le vetture rinvenute sono chiaramente riconducibili a quei fatti sulle vetture abbiate pazienza vi devo attediare ancora qualche secondo per un certo periodo uno degli appartenenti alla banda il Gugliotta lavorò anche presso la sala la sala operativa curava l'inserimento dei dati delle vetture rubate diciamo che poteva essere un soggetto utile allo scopo questo poi lo vedremo successivamente comunque loro rubavano molte vetture le tenevano sinceramente non so come sotto controllo non lo so quotidianamente perché noi abbiamo vetture che vengono rubate oggi ritrovate dopo nove mesi allora io dico è esperienza comune di ciascuno di noi partire per una modesta vacanza d'inverno quattro cinque sei giorni lasciare la vettura fuori perché non ha il box e tornare nove su dieci la batteria non va o a questi gli andava sempre nel senso che le macchine le vetture rimanevano per mesi all'aperto e andavano funzionavano avevano un servizio di manutenzione non lo sappiamo non è una battuta la mia guardate il problema ha una sua pregnanza probatoria non è una battuta perché non stiamo parlando di due tre quattro cinque vetture parliamo di decine decine e decine di vetture disseminate in vari punti della città punti anche strategici della città molte le abbiamo trovate molte forse non sono state mai trovate molte sono state trovate purtroppo sempre per quella fretta che alle volte accompagna certi accertamenti ce ne rendiamo conto per carità non è stato predisposto il servizio di appostamento venne trovata non molto tempo prima dell'arresto venne individuata una vettura in un comune della cintura bolognese c'è la scheda magnetica e vabbè ci mettevamo H24 una pattuglia in borghese prima o dopo poteva pure arrivare che la andava a riprendere quella macchina venne rimossa e vabbè questo è un problema di coordinamento poi ne parleremo a suo tempo comunque le vetture rappresentano un passaggio a un tassello fondamentale prima dell'arresto venne sequestrata una vettura a bordo di questa vettura io perché mi occupavo di quella questione tramite due istituti universitari di Bologna disposi degli accertamenti tecnici sulla sabbia o meglio sul terriccio fatto cadere picchiando sotto i passaruota e su degli aghi del fogliame diciamo così va rinvenuto nei gocciolatoi del cofano così per scrupolo istruttorio per curiosità non lo so perché insomma il risultato fu stiamo parlando prima dell'arresto il risultato fu che il materiale diciamo così terroso era di natura silicea tipico delle cave ho fatto la piantina delle cave sono 280 in Emilia Romagna quindi era impossibile verificarle tutte e l'altro invece più è più importante diciamo è più rilevante il risultato l'istituto di botanica sperimentale dell'università di Bologna ci disse che quella formazione proveniva dai cedri del Libano e ci chiarì anche che si tratta naturalmente di piante che vengono piantate che non nascono in natura a queste latitudini eccetera eccetera vi dico questo perché nel corso degli interrogatori un luogo prediletto per lasciare diciamo così le vetture è il parcheggio di San Lazzaro il cosiddetto parco dei cedri sinceramente non ci sono stato spero che ci sia un cedro del Libano almeno altrimenti tutto quello che vi ho detto non serve penso che ci sia quindi questo è diciamo un ulteriore aspetto del modus operandi la scheda magnetica poi c'è un capitoletto a parte che credo vi debba introdurre adesso che riguarda i cosiddetti depistaggi depistaggi degli imputati perché poi vi dovrò parlare di un enorme depistaggio scompiuto da un brigadiere dall'allora brigadiere dei Carabinieri Domenico Macauda ma ne parleremo a suo tempo tra un po' allora dove sta? tale che l'ho perso dunque ah ecco il difensore di Alberto Sadi i signori della banda della Uno Bianca come vi ho detto cercarono di sviare qualsiasi sospetto o meglio di condurre i sospetti su altri soggetti se non identificabili con nome e cognome almeno identificabili diciamo così soggettivamente geograficamente o toponomasticamente nel quartiere Pilastri allora nel corso di una rapina presso la Banca Popolare di Cesena del 25 novembre 91 ed è importante questa data perché in questa rapina il sistema di televisione a circuito interno immortalò il viso di uno dei rapinatori che poi si dimostrò essere quello di Fabio Savi dicevo nel corso di questa rapina venne portato via un documento di alcuni documenti acquisiti rapinati nel corso di questo fatto delittuoso vennero abbandonati in un bar di Catania vicino alla stazione ferroviaria nel corso poi degli esami se li accetteranno vedremo che la cosa sembra essere stata fatta cioè l'abbandono di questi documenti dal signor Gugliotta Gugliotta Pietro sempre a Catania Gugliotta e Catanese nel corso di altra rapina sempre nel Cesenate contentato omicidio di una persona altri documenti riconducibili a questa rapina vennero abbandonati in quel di Arezzo in Toscana anche questa è una regione della quale in qualche modo ci dovremo seppur velocemente occupare poi nel corso di una rapina presso la cassa di risparmio di Casalecchio del 26 8 92 il documento di identità sottratto al direttore di banca venne poi rinvenuto da un cittadino in via Salgari al Pilastro qui siamo nel depistaggio toponomastico non geografico nel corso di una rapina presso il credito romagnolo di Zola Predosa conclusosi con l'omicidio valente di questo già vi ho parlato non ci ritorno sopra più di tanto venne lasciato quel biglietto ATM di Catania su una vettura Y10 che poi noi abbiamo dimostrato essere stato maneggiato palmarmente da Gugliotti non è finita abbiamo il quinto episodio quinto chiamiamolo depistaggio esito di rapina presso la coppa di via Gorki quella che poi si concluse con l'omicidio del passante Adolfino Alessandri la vettura i documenti accompagnatori insomma il libretto di circolazione della vettura che venne sottratta a tal gileno Danilo vengono trovati in via Lodovico Frati al pilastro vengono rinvenuti e quindi abbandonati da qualcuno riteniamo dagli attuali imputati o da persone da loro incarichate in via Lodovico Frati al pilastro vicino a questa strada siamo nelle adiacenze di via Casini luogo in cui venne consumato l'eccidio vengono ritrovati però ovviamente tempo prima nell'89 quindi abbiamo liquidato anche questo argomento per dire come c'è una continuità nei comportamenti nel modus operandi io adesso vi dico come intenderei procedere affronterei il discorso indagini e poi affronterei singolarmente gli episodi accompagnando ciascun episodio con le richieste probatorie quindi con la richiesta dei testi dei consulenti dei documenti per non dover fare un calderone unico alla fine quando sarete immagino stremati se vogliamo fare dieci minuti di sosta io ci sto d'accordo grazie per la ritraduzione d'accordo allora si aspetta qualche minuto no si vuole consultare col difensore per domani avvocato allora rinuncia rinuncia per domani rinuncia a tutte le udienze allora andiamo atto che Savi viene autorizzato a lasciare l'aula e prima di farlo dichiara di rinunciare a presenziare alle udienze successive fino a diversa determinazione d'accordo senta pubblico ministero che quali sono le previsioni e volendosi mandare al pomeriggio dunque ci sono dei problemi no perché potremmo esaurire le altre due ore ci provo non glielo so dire come vedete però non è un problema no no non ho tracce cioè vi debbo un po' raccontare gli episodi e chiedere tutte le prove per oggi il pubblico ministero se non termine entro le 14 aggiorniamo alle 15 io chiederei la cortesia a tutti di pazientare e oggi farmi concludere per ragioni proprio di concentrazione di no ma non abbiamo problemi di grazie dobbiamo soltanto organizzare la giornata anche perché i giurati popolari hanno una serie di problemi posso? prego un attimo che si tu cos'hai fatto con la carta che ti sei andato a fare io sono scivolato sull'animo non mi direto quando questo? a marzo adesso sto mettendo pancetta perché non sto andando più a fare risposta ah beh quello è minimo ma come vai? cosa ti è rimasto questa gamba? mi è rimasto un dolore forte poi per esempio ogni volta che blocco la gamba per rimettere il polone fa male però dopo aver fatto l'attacco mi hanno visto per vedere che c'era una lesione del menisco invece pare che non ci sia ma c'è soltanto un ingrossamento e poi devo andare dall'ortopedico con il risultato dell'attacco allora avevamo introdotto l'argomento indagini è chiaro che noi non potremo non ripercorrere nel dettaglio quasi otto anni di storia criminale quindi parallelamente quasi otto anni di indagini che a questa storia criminale ineriscono quando affronterò l'argomento nello specifico per quel che riguarda la lista testimoniale vi renderete conto che ho introdotto un elevatissimo numero di ufficiali di polizia giudiziaria sia della Polstato che dell'arma dei carabinieri vi spiegherò poi quale sarebbe la mia intenzione sotto il profilo metodologico tornando al capitoletto chiamiamolo così indagini io mi rendo conto che è un argomento delicato e tale da suscitare facili e spesso del tutto gratuite polemiche nei confronti di interi uffici investigativi che sicuramente non meritano facili e gratuite polemiche però mi rendo anche conto che da parte di questi cioè degli uffici investigativi non possiamo accettare facili e gratuite polemiche nei confronti di chi sta cercando ha cercato e cercherà con obiettività e scrupolo solo di far affiorare la verità dei fatti questo non è un processo contro questa o quella istituzione particolare questo è signori della corte d'assise un processo per le istituzioni per riaffermare in maniera forte e chiara il primato della legge sulla barbarie espressa per otto lunghi anni da uomini che purtroppo e sottolineo purtroppo vestivano la divisa della polizia di stato ciò detto però non significa che da parte del mio ufficio ci siano state ci sono ci saranno indulgenze o timidezze nei confronti di chi che sia è chiaro che in questo processo io vi sottoporrò elementi forti allo stato inconfutabili per affermare la penale responsabilità degli imputati questo processo però ci sono altri soggetti parti civili e un responsabile civile io interloquirò il meno possibile in detta materia se non quando ciò sarà strettamente necessario come è stato strettamente necessario alla scorsa udienza quando ho citato alcune pagine della relazione dell'oggi onorevole Serra sarete voi a valutare se chi doveva vigilare eventualmente non ha vigilato se chi doveva indagare eventualmente non ha indagato al meglio delle proprie capacità se chi doveva riferire non ha riferito non sembra irriverente quest'ultimo inciso chi vi parla dopo quattro anni e mezzo con un lavoro certosino e non saremo mai grati ai nostri stretti collaboratori mai tanto grati ai nostri stretti collaboratori o mai grati abbastanza che forse è più corretto dicevo dopo quattro anni e mezzo abbiamo individuato una pattuglia di uomini in divisa i quali vedono i poveri carabinieri Mitilini Moneta e Stefanini questi sono i cognomi dei tre militari trucidati al pilastro poco tempo prima dell'eccidio ci parlano vedremo poi se le modalità che mi hanno raccontato sono quelle vere abbiamo testi a riscontro che un pochino le infisciano altri testi in divisa forse sono gli ultimi ad aver parlato le ultime persone ad aver visto vivi e aver dialogato con loro i tre militari quella sera uno di loro torna sul posto è lì questo signore si chiama Cricelli Massimo non liquidiamolo come alle volte per comprensibile necessità giornalistica come il cartomante sarebbe quella persona che nel tempo libero fa le carte Cricelli Massimo è un soggetto che ha un suo spessore umano professionale e provatorio ebbene questo torna vedi i corpi dei tre colleghi se ne sta zitto sia lui che il suo collega perché la pattuglia era composta da due uomini in divisa stanno zitti tacciono quindi l'inciso se chi doveva riferire non ha riferito non è sparato a casaccio ma si riferisce ad esempio al signor Cricelli Massimo tacciono li individuiamo con molto sforzo quattro anni e mezzo dopo gli chiediamo perché e il signor Cricelli dice ma sa non lo reputavo importante evidentemente anche il suo collega non lo ha reputato importante noi invece lo abbiamo reputato importante del cosiddetto quarto uomo del pilastro vi parlerò quando affronteremo l'argomento non sappiamo se anche qui siamo in presenza di un soggetto che doveva riferire e non ha riferito certo è che ripercorrendo le indagini noi cercheremo di tenere non solo fuori dalla porta ma lontano da questo palazzo il senno del poi eh ma era così facile eh ma quanti elementi quanti indizi no noi non facciamo scoop facciamo indagine e sottoponiamo prove però è doveroso da parte mia e sarà doveroso da parte mia senza indulgenza o timidezza e ripeto chiedere conto di certe incongruenze di certe sviste del come vennero o non vennero coordinate le indagini i quali controlli vennero fatti sulle armi detenute dagli imputanti perché vedete il comune cittadino che acquista ad esempio delle cartucce o un qualcosa di poco conto in un'armeria all'obbligo di denunciarle normalmente lo fa quando e può capitare perché la normativa è abbastanza farraginosa e complessa non lo fa normalmente viene individuato con una certa facilità perché quando l'armaiolo vende registra su un apposito documento che poi viene inviata all'autorità di pubblica sicurezza è sempre polizia di stato si va a vedere nel fascicoletto personale del detentore e se non risulta la denuncia si chiede conto alla persona del perché non ha effettuato la denuncia qui noi nel garage di Roberto Savi abbiamo trovato un arsenale legittimamente denunciato d'accordo ma un quantitativo di cartucce spaventoso basta leggere il verbale di sequestro sono centinaia 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 di cartucce erano tutte denunciate forse qualcosa sarà sfuggito ma c'è qualcosa che tanto vale affrontare subito ad un certo punto quando il filo probatorio trattino balistico conduce a certe armi in modo particolare al 222 Remington che a quel punto veniva individuato come AR70 Beretta AR70 il signor Roberto Savi si produce nella seguente acrobazia lui stiamo parlando del dicembre 1990 credo il mese più terribile che abbia mai vissuto questa città dal punto di vista criminale naturalmente uno stilicidio di sangue lui pensa bene dopo aver usato ripetutamente numerosissimi fatti commessi in quel mese pensa bene di come dire manomettere l'arma da lui legittimamente detenuta stiamo parlando di questa è questa l'arma questo è un fucile d'assalto caratteristiche identiche sia per l'arma diciamo comune da sparo che per l'arma da guerra cambia solo il calibro e la capacità di fuoco nel senso che l'arma comune da sparo non può sparare a raffica attenzione non può sparare a raffica salvo una modestissima modifica che peraltro non incide sulla struttura dell'arma e che vi dimostrerò essere possibile attraverso l'introduzione di un colonnello dei carabinieri esperto in tale materia con la posizione di un anello in un certo passaggio del meccanismo allora lui cosa pensa di fare anzi cosa fa fa esplodere diciamo l'arma nel punto prossimo alla camera di scoppio laddove avviene diciamo la fase più importante di tutto il meccanismo di sparo probabilmente piantando l'arma in terra e deflagrando un colpo si causa naturalmente una ritenzione impropria di gas e succede poi quello che vi ho appena detto e poi questo fucile lo vende tramite l'intermediazione di un altro di un collega lo vende ad una terza persona ignara presso la quale l'andiamo a sequestrare successivamente all'arresto però che cosa fa in data 27 dicembre acquista il signore lì deve uscire fuori col telefonino e dovete tenere i telefonini disattivati altrimenti dovrete tutti posare il telefonino fuori dell'aula allora dicevo il 27 dicembre 1990 acquista un'altra AR70 identica cambia solo naturalmente il numero di matricola ma perché l'acquista non ne aveva bisogno è lui che autodistrugge la precedente l'acquista perché in questura ed ecco uno degli elementi descrittivi dell'abuso della propria qualifica di poliziotto in quel momento negli ambienti investigativi è più corretto dire perché anche l'arma dei carabinieri si stava orientando in tal senso comunque in ambito investigativo si stava cercando e si è cercato e poi si è fatto di dare un nome ed un cognome ai detentori di questo tipo di arma poi vedremo quanti erano i detentori in Emilia Romagna il Savi non è fesso si rende conto che in tal modo potrebbero arrivare a lui ed allora si disfa di quella R70 grondante sangue e ne acquista un altro il 27 dicembre ordinandolo il 22 o il 23 normalmente queste sono armi che bisogna in qualche modo ordinare ma questo formerà oggetto di approfondimento di battimento all'ulteriore lui la trova comunque acquista questa seconda R70 fatalmente accade che in questura si vada sembra incredibile ma si chiede si vede un po' dice ma tra i detentori c'è un poliziotto noi non l'abbiamo mai vista sta R70 chiediamogli se ce la porta per vederla ciò accade un paio di settimane dopo se non erro la fine del dicembre più o meno e lui la porta questa R70 attenzione porta la seconda a R70 quella acquistata il 27 atteggiamento tracotante ma comunque assolutamente tranquillo dal punto di vista del SAVI perché qualsiasi tipo di accertamento fosse stato deciso di fare su quell'arma sarebbe risultata pulita accertamenti non vennero fatti poi vedremo eventualmente perché non vennero fatti o comunque gli orientamenti investigativi dell'epoca venne fotografata questa seconda a R70 e l'arma venne poi restituita al legittimo detentore siamo nel gennaio del 91 l'ecciso del pilastro si è già verificato vedremo poi che ci sarà una stasi di qualche tempo in città e quelle due pistole 9x21 dell'armeria Volturno verranno rapinate nel maggio a quel punto scompare di fatto la R70 salvo riapparire forse più in là e inizia diciamo l'epoca o la stagione delle 9x21 evidentemente in quel periodo parliamo degli anni 91-92 da quel periodo in avanti un po' per indiscrezioni giornalistiche un po' per intuizioni di questo o quell'investigatore cominciò a farsi strada il dubbio forse anche indotto dalla tecnica di assalto dimostrata in alcune circostanze che gli autori potessero gli autori di questi fatti potessero in qualche modo avere a che fare con come vogliamo dire forze dell'ordine forze speciali o comunque fossero soggetti in qualche modo addestrati questo discorso allo stato embrionale poi pian piano si rafforza nel tempo fino ad arrivare ad una nota che nel mese di ottobre 94 sembra un anni luce ma in fondo sono due anni e mezzo tre anni dall'epoca in cui io vi ho introdotto l'argomento un tre anni circa un ispettore di polizia che ho indotto in prova è talmente sicuro di quello che va affermando un ispettore di polizia della squadra mobile di Bologna stiamo parlando sempre prima dell'arresto dopo l'ultimo episodio però è talmente sicuro di quello che va affermando che dirama o meglio redige una nota firmata da un funzionario ma noi abbiamo individuato tramite una certa sigla l'autore dirama una nota a tutti gli uffici investigativi e territoriali quindi polstrada eccetera in cui aperti sverbi viene detto oh attenzione colleghi cerchiamo queste persone con queste caratteristiche potrebbero aver mostrato tesserini delle forze dell'ordine quindi questi sospetti ripeto che embrionalmente si manifestano nel 91 inizio 91 e poco più avanti si realizzano diciamo così in maniera compiuta più o meno verso la fine del mese di ottobre 1994 e di lì a 22 giorni minuto più minuto meno Savi Roberto viene arrestato adesso non vi sto ad elencare altri riferimenti che in qualche modo avrebbero potuto non col senno del poi far sorgere qualche dubbio vi è una nomade che ritiene dopo un assalto di riconoscere in un poliziotto transitante negli uffici della questura o comunque in un soggetto transitante negli uffici della questura uno degli autori degli autori del fatto vi sono altre testimonianze rese nell'immediatezza immediatamente dopo i fatti che dicono avevano un atteggiamento come bloccavano le persone come impugnavano l'arma tale da farci pensare che potessero in qualche modo essere adusi essere allenati essere addestrati e quindi è doveroso è obbligatorio è imprescindibile chiedere serenamente valutare con altrettanta serenità i ragionamenti investigativi che vennero allora fatti poi vi porterò su un altro argomento senza enfasi il nome il nome Fabio Savi viene individuato nel 1989 dai carabinieri come detentore di una vettura tra molte altre che una certa persona poi vi dirò chi ritene allora di aver visto in un sopralluogo presso la coppia di Castelmaggiore il luogo in cui pochi mesi dopo vennero trucidati i carabinieri stasi e del riu cercheremo di capire se c'è stato coordinamento che tipo di coordinamento c'è stato se c'è stata qualche sottovalutazione assolutamente umana per carità nessuno vuole criminalizzare nessuno insomma è un compito forse sgradevole ma doveroso intanto noi continuiamo a fare le nostre indagini chiamiamo chiamiamo diciamo così negli intervalli più dienza per cercare di dare un nome ed un cognome a quei correi che noi riteniamo ancora essere in circolazione adesso direi che l'excursus generale lo posso considerare concluso salvo intrattenervi ancora prima di entrare nel dettaglio un attimo sul quattrocentosedici sull'articolo quattrocentosedici contestato al capo a o uno non so che numerazione adesso prenderanno quelle centinaia di capi di imputazione che sono stati a suo tempo contestati negli autonomi fascicoli dicevo è bene chiarire che ad esempio il signor Marino Occhipinti e tutti gli altri imputati ad esclusione del signor Luca Vallicelli che noi neppure abbiamo imputato ma che è andato assolto a Rimini per l'associazione per delinquere sono imputati a Bologna per associazione per delinquere gli stessi imputati sono stati gli stessi soggetti sono stati imputati e condannati a Rimini per associazione per delinquere e anche Occhipinti è stato assolto grazie avvocato sì lo sottolineo Occhipinti Marino è stato assolto a Rimini sono in corso in un errore chiedo scusa allora non è che noi abbiamo contestato l'associazione per delinquere così a casaccio ci rendiamo conto di tutti i problemi che potrebbero sorgere che in ogni caso sorgeranno per il diviato del nebbissinidem in buona sostanza nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso fatto ma quando le sentenze andranno in giudicato ma noi riteniamo e un brevissimo accenno io già ve l'ho fatto in occasione di un'altra udienza noi riteniamo che non solo è stato opportuno ma è stato doveroso contestare anche a Bologna l'associazione per delinquere perché noi riteniamo che vi siano delle diversità ontologiche tra le due consorterie criminali è il rapporto del più che contiene il meno in quanto secondo noi l'associazione romagnola chiamiamola così può essere considerata un'entità organica collegata ad un'entità maggiore che ha operato nel territorio bolognese ad un'altra organizzazione e ciò per due ordini di ragioni il primo è che l'associazione che ha operato e che è stata costituita e che vive Dio almeno sul punto credo di non aver sbagliato se tre poliziotti risiedevano e lavoravano a Bologna credo che lasciando perdere la giurisprudenza che tutti conosciamo almeno si può presumere che i primi accordi siano stati presi a Bologna e non in qualche punto indistinto dall'autostrada a 14 allora l'associazione per delinquere individuata a Bologna non è stata scoperta e questo è un limite che riconosco a me stesso e alla Procura della Repubblica naturalmente in tutti i suoi elementi ma questo non è questa non è un'affermazione monomaniacale che noi ripetiamo 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 in ogni sede sollevando forza le volte anche impropri e improvvidi sorrisi spero non di commiserazione non è stata scoperta in tutti i suoi componenti perché noi abbiamo nelle carte le testimonianze resi in allora di coloro che assistettero agli eventi che analizzate passate al microscopio sovrapposte scomposte e riunite ci portano a dire che per dieci episodi otto sicuramente hanno operato in loco più soggetti di quelli che siamo riusciti ad individuare e a rinviare a giudizio quindi non è il parto della fantasia di qualche investigatore ma è il parto fisiologico di allegazioni testimoniali e documentali che abbiamo riletto già questo potrebbe bastare per caratterizzare in maniera diversa questa associazione rispetto all'associazione riminese perché in quella città non mi risulta anzi ne sono pressoché certo che siano stati contestati fatti criminosi agli appartenenti alla banda dell'uno bianco in concorso con ignoti è un dato obiettivo però c'è anche un'altra diversità direi non soggettiva ma più squisitamente criminologica o criminale gli episodi commessi a Bologna stiamo parlando di 17 omicidi signori non ve lo dimenticate mai e 30 attentati omicidi gli episodi commessi a Bologna dicevo rispetto a episodi commessi in altri luoghi ove anche lì peraltro ci sono stati fatti analoghi comunque sono in gran parte in maniera direi ritmica caratterizzati da totale indecifrabilità da totale incomprensibilità da totale assenza di qualsiasi possibile giustificazione che non sia una giustificazione da ricercare o nei meandri di una mente malata e non siamo in presenza di pazzi o in qualcos'altro vedremo alla fine del dibattimento di dare un contenuto a questo qualcos'altro almeno noi ci proviamo parlo dei campi nomadi tra un po' vi introduco nell'argomento assalti indiscriminati nei confronti di genti inerme può non essere simpatica alla gran parte dei concittadini ma dio mio sparargli addosso con una R70 così un altro episodio i cosiddetti lavavetri persone extracomunitarie che si guadagnavano da vivere appunto lavando i vetri boom boom addosso anche a loro armeria volturno non ci ritorno sopra perché ci ritornerò tra un momento e io ci metterei anche l'ecido del pilastro ecido del pilastro laddove alla luce delle dichiarazioni dei fratelli savi riscontrate da quello che ci disse a suo tempo la signorina Eva Edith Mikula avviene perché quella sera costoro vanno a rubare macchine armati fino ai denti e travisati oppure vanno questo lo dico nei savi l'amico la dice andavamo a sparare ai negri poi vi racconterò che cosa era accaduto al pilastro un mesetto circa prima dell'ecidio ci fu un assalto non compiuto almeno allo Stato non compiuto dagli attuali imputati dice vanno a sparare ai negri poi gli si presentano davanti i carabinieri vanno bene anche quelli e li massacrano in altro contesto processuale e vi chiederò di acquisire la sentenza come documento anche se non definitiva ma una recente cassazione ce lo consente il tutto cioè l'ecidio del pilastro viene inquadrato in un contesto diverso noi lo conosciamo questo contesto e cioè il fatto accadde perché quella notte in quella località in quel quartiere dove avvenire uno scambio di armi un passaggio di armi allo Stato a noi rimanendo in questo alveo processuale dal quale non vogliamo tracimare ma nel quale vorremmo anche che non tracimasse molto altro accade che vi ho appena detto allora questi fatti che cos'è che rappresentano rappresentano episodi di così gratuito spargimento di sangue che ci porta a pensare a ribadire in questa sede che forse il momento era altro insondabile inspiegabile irrazionale però tutto questo connota quell'associazione di caratteristiche particolari almeno questo è il mio pensiero allo Stato attuale delle conoscenze affrontiamo adesso i fatti nella loro cronologia il primo dunque associazione per delinquere ve l'ho detta Roberto Savi risponde della detenzione di armi non ho nulla da aggiungere salvo che richiamare la vostra attenzione sul sul verbale di sequestro che ha gli atti primo fatto criminoso che noi contestiamo temporalmente io seguirò pedisseguamente la scansione temporale perché credo che sia l'unico discrimine tra un minimo di ordine e la totale confusione allora il primo fatto criminoso che scriviamo a Roberto Fabio ed Alberto è una rapina tentata ad un casello autostradale di San Lazzaro avvenuto il 31 agosto dell'87 io vi produrrò dunque io qui davanti a me ho un ottimo lavoro fatto sempre dai solerti collaboratori in cui sono evidenziati in appositi spazi gli episodi criminosi le date l'orario gli autori del fatto distinguendo i soggetti con tonalità cromatiche diverse in modo tale che immediatamente si capisce i fatti commessi da Roberto da Fabio eccetera c'è una c spero che non me ne vogliano i difensori rappresenta confesso è chiaro che è una notizia che io fornisco con validità processuale prossima allo zero in questa fase però credo che si possa derogare un attimo ai formalismi perché la materia è veramente sterminata poi per gli episodi bolognesi perché questi raccolgono tutti gli episodi per i quali i fratelli Savi sono stati o già condannati a Pesaro a Rimini anche per i fatti forlivesi o sono davanti a voi per i fatti bolognesi sono cento e passo episodi per consentire una immediata riconoscibilità dell'episodio vi è poi un rettangolino colorato in grigio che rappresenta i fatti bolognesi a fianco vi è un altro rettangolo nel quale abbiamo indicato che cosa facevano gli imputati quel giorno all'inizio c'è una leggenda esplicativa molto chiara perché ci sono delle sigle incomprensibili per i non addetti ai lavori che vi dice che cosa significa CS che cosa significa RS e via discorrendo a fianco ancora vi è quando si tratta di rapine il provento a fianco ancora vi è la vettura utilizzata e a fianco ancora vi è il tipo di arma utilizzata suddivisi anche queste caratteristiche e balistiche per tonalità cromatiche in modo tale che si riesce immediatamente ad avere la sequenzialità di quest'arma piuttosto che di un'altra una sola copia a disposizione di tutti i difensori se vogliono non ho problemi a darglielo allora il primo episodio che scriviamo è quello del 31 agosto 87 si presentano Roberto Fabio ed Alberto Roberto e Fabio sono confessi la rapina va male ma già che ci sono sparano al signor recuperati dipendente della società autostrade poi colpiscono ancora parecchie volte nel 1987 stiamo parlando della cosiddetta banda della regata ma colpiscono fuori Bologna nel Riminese nel Forlivese e nel Pesarese tornano a colpire nel circondario di Bologna il 4 febbraio 1988 quando assaltano in 4 il casello autostradale di San Lazzaro di Savena qui sono imputati Roberto Fabio erano imputati anche Marino Occhipinti e Luca Vallicelli tutti confessi questi due hanno scelto la strada del rito abbreviato e la loro posizione è stata stralciata naturalmente già hanno avuto la loro brava condanna la data è importante per quel che riguarda la posizione di Marino Occhipinti perché l'8 febbraio acquisterà quel fucile a pompa cui ho fatto riferimento prima che verrà utilizzato il 19 febbraio 88 vale a dire 15 giorni dopo questo episodio per il compimento di una rapina di una terribile rapina alle 20 e 15 presso la cop di Casalecchio dove rimane uccisa la guardia giurata Beccari dove tre guardie giurate rimangono ferite con modalità estremamente decise dal punto di vista criminale perché oltre che la pioggia di fuoco prima viene usato dell'esplosivo in questa rapina viene utilizzata la pistola Colt Python di Roberto nonché il fucile a pompa di Marino Occhipinti sui motivi per i quali riteniamo che ci siano elementi di responsabilità dell'Occhipinti mi sono già dilungato e quindi non viterio oltre passiamo al 20 aprile 1988 è sera sono circa le 22 e 15 sicuramente buio siamo nel parcheggio antistante la cop di Castelmaggiore quella sera i savi previa sopra luogo svolto previa alcuni sopra luoghi svolti in precedenza a uno di questi partecipo anche il Marino Occhipinti ve lo dico incidentalmente perché ricordiamoci sempre che abbiamo l'associazione per delinquere sono la sicuramente Roberto e Fabio poi noi riteniamo che ci sia anche Alberto poi ve la racconto meglio quella sera però si verifica un intoppo nella nel percorso che deve svolgere il furgone porta valori che sistematicamente come tutte le sere fa il giro delle casse presso le varie cop per accogliere il denaro in pratica si scassa si rompe il furgone blindato che doveva arrivare ad una certa ora che era già stata individuata il servizio viene come dire surrogato con una vettura normale forse anche blindata comunque non furgonata chiaramente la vettura va più veloce del furgone e il denaro viene prelevato prima allora intorno alle 22 e 15 in quel parcheggio hanno la sventura di entrare i carabinieri Stasi e Del Rio dipendenti dalla stazione di Castelmaggiore che erano in un normale servizio di pattugliamento e vigilanza che cosa ci facessero ancora Fabio e Roberto Savi visto che il furgone non arrivava e visto che per loro stessa ammissione nel corso degli interrogatori ci hanno sempre detto che facciano le ricognizioni andavano per fare il colpo ma se qualcosa andava storto pochi minuti si trattenevano sul posto e poi si allontanavano per riprovarci che cosa ci facessero parecchi minuti dopo l'orario presunto di arrivo del furgone in quel parcheggio è e rimane allo Stato un mistero non rimane però un mistero il fatto che ad un certo punto il faro che è posto sopra il tetto della vettura dei carabinieri inquadra una vettura una Fiat 1 bianca e insomma da diversi punti si apre il fuoco sui carabinieri sottolineo da diversi punti cadono immediatamente sia il carabiniere e Rio che il carabiniere Stasi muoiono quasi subito con una difficoltà enorme siamo riusciti a ricostruire la dinamica crediamo abbastanza attendibile dell'evento andando a riscomodare i testimoni oculari non tanto dell'eccidio quanto delle fasi immediatamente antecedenti adesso e delle fasi immediatamente susseguenti adesso quando affronteremo partitamente questa vicenda ci saranno degli aspetti che dovremo per forza di cose chiarire o cercare di chiarire ed in particolare intendo riferirmi ad una presunta chiamata via radio che sarebbe giunta mentre la pattuglia era ferma ad un passaggio a livello per cui uno dei due carabinieri quello posto al lato guida risponde al telefono perché le vetture dell'arma sono dotate di telefono a differenza di quelle della polizia che hanno il microfono e la vettura inverte la marcia accende i lampeggianti e si avvia è un eh fatto questo che nonostante gli sforzi profusi non siamo riusciti a chiarire perché da una parte abbiamo un teste una teste che ci dice questo e ce lo conferma dall'altra non c'è traccia alcuna di chiamata intervenuta quella sera nei confronti di questa pattuglia automontata abbiamo solo raggranellato poca roba una poliziotta un agente di polizia eh sentita da da chi vi parla mi disse l'abbiamo indotta come teste che giunta sul posto si parlava di giunta sul posto quindi nella nel parcheggio si parlava di questa di questa chiamata però non credo che riusciremo a capirne molto di più io qui vi devo aprire una parentesi rapida però l'omicidio Stasi del Rio rappresenta uno dei due fatti per i quali è stato condannato per depistaggio sarebbe più corretto dire inquinamento probatorio perché forse questa è la dizione giusta in questa sede tale allora brigadiere Domenico Macauda che cosa si inventa costui lui all'epoca era se non erro in servizio presso il reparto antidroga dei carabinieri di Bologna del nucleo operativo credo ma non sono sicuro e nel corso di una perquisizione dunque i poveri Stasi del Rio vengono ammazzati il 20 aprile dell'88 24-88 il 30 aprile dell'88 il brigadiere l'allora brigadiere Macauda fabbrica delle vere e proprie prove false a carico della famiglia Testoni famiglia che poi verrà abbondantemente prosciolta da qualsiasi addebito che cosa fa questo gentiluomo approfittando della propria qualità soggettiva introduce nell'abitacolo della vettura Fiat 1 bianca usata per l'ecidio sequestrata successivamente e per così dire ricoverata parcheggiata in un cortile di una caserma dei carabinieri qui di Bologna mette in bella vista un bossolo calibro 38 esploso dice lui con la sua pistola il Macauda all'epoca aveva un bossolo calibro 38 è un atto di fede credere o non credere a questa affermazione perché poi il Macauda limò il cane il percussore insomma dell'arma per cui sicuramente sarà vero però non potremo mai dimostrare che quella sua 38 ha esploso quel bossolo comunque diciamo che è vero bossoli del medesimo calibro della medesima marca marca Winchester esplosi dalla sua pistola li depone presso la povera famiglia Testoni la quale si trova in un guaio grosso un guaio molto serio perché nel corso di questa perquisizione a casa di questi soggetti vengono rinvenuti dei bossoli identici a quello rinvenuto sulla vettura Fiat 1 per cui direi che il nesso probatorio almeno in quel momento era forte e stringente questo depistaggio il Macau per questo depistaggio il Macau viene scoperto di lì a qualche tempo viene arrestato lo confessa non ci dà nessuna spiegazione io vi chiederò di sentirlo X210 vedremo un po' che ci racconto comunque a bordo di questa vettura Fiat 1 bianca usata per le cito stasi del Rio c'è anche un altro particolare che anche qui nonostante gli sforzi non siamo stati capaci di chiarire nell'immediatezza non viene trovato quel bossolo calibro 38 che viene trovato successivamente quando la vettura è presso la caserma dei carabinieri nell'immediatezza viene trovato però un bossolo 357 magnum quello del pistolone per intendersi e qui è un problema perché nonostante tutte le perizie gli accertamenti gli approfondimenti quel 357 quel bossolo 357 non risulta sicuramente esploso dalla pistola di Macau da Domenico perché il Macau aveva una pistola 38 che non può contenere quel tipo di bossolo che è più grosso né risulta esploso da alcuna delle armi in sequestro ci abbiamo un bossolo 357 senza padre processuale bene il Macau viene accusato di un altro depistaggio che lui nega che andrò ad affrontare tra pochissimo allora il 20 aprile dell'88 vi ho raccontato sinteticamente quello che accade a Castelmaggiore il 24 maggio dell'88 presso la Conad di Casteldebole arriva un furgone portavalori e direi in maniera abbastanza anzi direi incruenta Fabio e Roberto Savi confesso sul punto si portano via 33 milioni usano pistole e fucili viaggiano a bordo di una Fiat Ritmo qui abbiamo a riscontro delle individuazioni da parte di una guardia giurata che si chiama Neri Valentino colpiscono ancora lo vedrete fuori Bologna dove tornano a farsi vivi in maniera eclatante la sera del 13 ottobre 1988 intorno alle ore 20 e 40 quando in via Massarenti di fronte all'ospedale Sant'Orsola attaccano un furgone portavalori della Cop e feriscono tre guardie giurate qui tre guardie giurate qui abbiamo Roberto Fabio e Alberto che confessano viene utilizzata un Alfa Romeo 33 si portano via 98 milioni in ordine alle perizie siamo ancora in ordine alle consulenze siamo ancora in attesa di un risultato certo che ci soddisfi anche sul punto stiamo cercando i bossoli in pratica non riusciamo più a trovarsi andiamo avanti colpiscono ancora da qualche altra parte 26 giugno 89 ore 22 rapina al furgone portavalori delle Cop che transita in zona via Gorchi per il quotidiano e periodico prelievo del denaro dunque qui la vicenda è complessa viene usato l'esplosivo come in Casalecchio le quattro guardie giurate vengono travolte da una pioggia di fuoco rimangono ferite Fabio e Roberto confessano gli ignoti non li abbiamo ancora individuati questo è uno di quei tre episodi per i quali sono stati condannati altri soggetti la cosiddetta banda dei catanesi però quella notte accade qualcos'altro di ulteriormente tragico se possibile oltre al ferimento di quattro guardie giurate allora mentre dopo aver consumato la rapina che fruttò 38 milioni circa una Fiat 1 di colore bianco si allontanò per una via posta nei pressi della Copp di Via Gorki che se non ricordo male è Via Ghete mentre le persone si stavano allontanando poi vedremo se un attimo prima un attimo dopo adesso non voglio annoiarvi su questi passaggi insomma una persona per bene che si chiamava Adolfino Alessandri che cosa fa? fa quello che un uomo coraggioso avrebbe fatto grida tutto il suo disprezzo tutto il suo orrore la sua rabbia in faccia in faccia a questi delinquenti e li chiama per quello che sono delinquenti cosa fa? boom boom un attimo dopo Adolfino Alessandri era morto ci metteremo in prova contesti diciamo così uditivi che hanno sentito quella parola quella frase che quest'uomo coraggioso ha profferito all'indirizzo di questa gente e contesti oculari che ci aiuteranno anche a capire la dinamica di quei fatti è inutile che sottolinei come sia importante capire comprendere sviscerare la dinamica di questi fatti proprio per evitare qualsiasi possibile interferenza o interconnessione con altri processi in corso va bene andiamo avanti 2 gennaio 1990 ore 22 e 15 il cittadino extracomunitario Drissa Kesby e a passeggio comunque sta facendo gli affari suoi in viale Aldomoro di Bologna quando ad un certo punto gli si avvicina una vettura Golf scuro colore scuro a bordo di questa vettura ci sono Roberto Fabio e Pietro Cugliotta vi chiedo scusa sicuramente vi sarà sfuggito ma io per dovere ve lo debbo rammentare facendo mezzo passo indietro sull'omicidio Stasi del Rio io vi ho detto soltanto che erano presenti Fabio e Roberto ma voi vedete che è imputato anche Alberto Alberto è stato imputato perché ha sparato la sua pistola onestamente vi devo dire che nei confronti di Alberto detto Luca non abbiamo chiamati in corretà noi abbiamo però ritenuto doveroso in assenza di giustificazioni plausibili imputarlo dall'omicidio Stasi del Rio del quale lui si proclama innocente perché sparò la sua pistola chiedo scusa per il passo indietro ma era doveroso farlo perché altrimenti sembrava che ci fosse della confusione allora Roberto Fabio dicevo e Pietro per Pietro Gugliotta questo episodio rappresenta la prova la cosiddetta prova del fuoco ve l'ho raccontata non ve la sto a ripetere spara un revolver Smith & Wesson con un certo numero di matricola di proprietà di Roberto che ricorrerà in moltissimi episodi nonché altro revolver nel quale peraltro abbiamo delle cui ogive peraltro abbiamo soltanto delle delle schegge quindi non siamo in grado di darvi risposte balistiche certe vabbè anche questa è fatta dal punto di vista di quei criminali ditemi voi che interesse che motivo ci poteva essere passano però non rimangono con le mani in mano Drissa Kesbe in ospedale e questi signori lavorano lavorano progettano ed eseguono una rapina presso l'ufficio postale di via Emilia Levante qui di Bologna fatto gravissimo e abbiamo contestato la strage il reato di strage di cui al capoverso e non di cui è il primo comma o viceversa non ricordo bene in buona sostanza il comma che non prevede l'ergastolo sol perché quel povero cittadino che è morto successivamente la consulenza ci ha detto che è morto non in diretta dipendenza dell'evento delittuoso sono le ore nove arrivano delle persone forse quattro c'è tutto un movimento di vetture che poi ricostruiremo sia nella fase dell'arrivo che nella fase della fuga tecnica da comando qualcuno entra altri rimangono fuori le persone che si affacciano alle finestre vengono gentilmente invitate a rientrare con sventagliate di mitra l'ufficio postale è pieno di gente di gente per bene di gente normale di pensionati di cittadini che vanno a svolgere le normali operazioni e che vanno a riscuotere la pensione qualcuno forse Roberto mette sul banco su un bancone dell'ufficio postale un pacco che non è un pacco postale contiene esplosivo digli a poco forse per un incidente di percorso forse per aver mal calcolato modalità e tempi perché Roberto sostiene di essere un artigiano degli esplosivi un'autodidatta poi ci spiegherà dove l'ha imparato fatto sta che cade questo pacco o comunque succede qualcosa c'è una deflagrazione terribile potentissima crolla il soffitto vanno infrantumi i vetri blindati la gente che urla la polvere il terrore siamo a Bologna chi scappa di qua chi scappa di là forse si impossessano di un modestissimo quantitativo di denaro 4 milioni intanto chi è fuori continua a tenere a bada diciamo i curiosi sventagliando a destra e a manca con una mitraglietta e anche sulla mitraglietta ci sarebbe da ragionare e ci ragioneremo al momento opportuno abbiamo decine di feriti decine decine di feriti credo 55 o 60 e naturalmente ci metto anche coloro che hanno riportato ferite lievi tanto le ferite morali nessun certificato medico ce le potrà mai quantifichare fuggono a bordo di quella vettura Volkswagen Passat di colore bianco lasciando sul sedile posteriore quelle tracce di sangue delle quali vi ho parlato stamattina e che il DNA che è un accertamento tecnico direi ormai processualmente assolutamente utilizzabile chiaro ma anche scientificamente assolutamente accettabile perché vi spiegherà poi la consulente che le probabilità che esistano sulla faccia della terra due persone con il medesimo DNA fatti tutti gli accertamenti è di uno credo a 16 miliardi insomma quel sangue di Savi Roberto non si scappa va bene andiamo avanti passa un po' di tempo tornano in Romagna a lavorare 30 aprile 90 è una data importante è una data importante perché avviene un fatto strano in via Saragozza a Bologna dico strano perché è l'unico episodio criminale che abbiamo scoperto soli soli zitti zitti senza che ci inducessero sulle tracce i savi che cosa abbiamo fatto abbiamo fatto una cosa molto semplice non è che siamo stati particolarmente bravi abbiamo ripercorso a ritroso siccome ci mancavano forse i fatti criminosi tutte le rapine un po' diciamo così anomale di un certo tipo e ci ha incuriosito questo episodio accade questo ore 23 siamo in un garage di via Saragozza ad un certo punto entrano due ceffi travisati il solito lungo e corto gli piace una fiat tipo che sta in quel garage a chi tenta di frapporsi il signor Lazzari per la precisione rispondono con un colpo di Smith & Wesson nella coscia si prendono la fiat tipo e scappano qualche test un test in modo particolare ci dice che fuggono preceduti da una fiat 1 bianca è un bel rebus questa rapina perché perché per molteplici ragioni sinteticamente ve ne spongo pochissime uno non hanno mai rapinato vetture con queste modalità per di più in un garage le vetture le rubavano di fiat tipo Bologna ne era piena così come era piena di fiat 1 c'è la fiat 1 bianca che li precede ma questa vettura rimane nella disponibilità di questi signori per lunghi mesi viene rinvenuta interamente bruciata vi indurrò in prova gli ufficiali dirigili del fuoco che usano il termine colata in data 9 gennaio 91 vale a dire 5 giorni dopo l'eccidio del pilastro in località Casalecchio di Reno in via Pietromicca che è una strada prediletta o comunque che ricorre come luogo in cui vengono rubate o rilasciate vetture interamente bruciata e fin qui voi mi direte allora dove sta la particolarità beh la particolarità sta prima di tutto nelle modalità tanto è vero che in questo fatto che nessuno si sognava di ascrivere o almeno nessuno si è sognava di ascrivere per lungo tempo alla banda della 1 bianca si allertarono le antenne investigative della questura di Bologna tanto è vero intervenne l'ufficio Digos il quale normalmente interviene quando si ravvisano caratteristiche di tipo particolare in certi fatti delittuosi l'ufficio Digos è il vecchio ufficio politico per intenderci in buona sostanza questa è una rapina con tecniche terroristiche già viste non sto dicendo con questo che i savi sono terroristi sia ben chiaro le tecniche però sono analoghe non solo la vettura viene ritrovata e inopinatamente senza che noi chiediamo nulla Savi Fabio nel corso di un interrogatorio ci dice avete ritrovato quella vettura bruciata eccetera eccetera sì signor Savi l'abbiamo ritrovata perché beh noi la bruciamo per far scomparire ciò che c'era a bordo di quella Fiat Tipo che cosa c'era a bordo di quella Fiat Tipo signor Savi c'erano dei bossoli calibro 223 attenzione se vi ricordate il munizionamento 223 è il munizionamento militare è praticamente il gemello militare un po' più lungo del 222 non in libera vendita in uso quindi a corpi dello Stato chiaramente comunque non è un munizionamento in libera vendita nonostante i tentativi chiaramente la vettura essendo poi stata successivamente distrutta perché l'evento venne scritto a carico di Gnoti non siamo in grado di dirvi se quello che afferma il signor Savi è vero o falso certo è che lo afferma spontaneamente senza che nessuno gli chieda nulla e inserisce questa 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 caratteristica diciamo così balistica in un contesto criminale anomalo che noi già avevamo colto come tale va bene andiamo avanti 6 ottobre 90 supermercato Crai di Longara circondario di Bologna ore 19 quella sera sono scatenati Fabio e Roberto entrano al supermercato sotto la minaccia di un revolver si impossessano di un milione e 700 mila lire non gli va bene imboccano la strada verso Bologna arrivano in zona via Zanardi e qui tentano di rapinare un altro esercizio commerciale vogliono che una persona di passaggio signor Bonafè consegni loro il denaro contenuto nel portafogli il denaro c'è il denaro non c'è qualcuno scappa qualcuno fugge e quelli sparano e prendono Bonafè ferito i colpi vengono sentiti la gente si allarma che succede che non succede in strada c'è il signor Primo Zecchi altro cittadino coraggioso che fa il signor Primo Zecchi in strada aspetta la figlia se non sbaglio di ritorno da una gita o la figlia e la moglie comunque lì contento sono le 19 e 30 che cosa fa invece di buttarsi per terra di voltarsi dall'altra parte di non vedere di non sentire fa una cosa di un coraggio incredibile cerca di annotarsi i numeri della targa della vettura una Fiat 1 grigia questa volta e grida chiamati il 113 chiamati il 113 ma non è che grida a 100 metri di distanza dagli autori del fatto ecco perché Primo Zecchi è un eroe civile di questa città e lo grida in faccia tanto è vero che c'è una colluttazione o si ritiene che ci sia stata una colluttazione guardatele quelle fotografie del corpo di Primo Zecchi non vi dico altro ovviamente il signor Primo Zecchi viene ammazzato con un colpo in fronte chi lo ammazza? Fabio, Roberto poi lo vedremo comunque sono confessi sul punto a sparare il revolver colt python del signor Roberto Savi che ci ha lasciato è tornato a peschiare qui ci sono due consulenze sul DNA perché sotto i polpastrelli del povero signor Zecchi all'epoca vennero repertati dei capelli il passaggio è importante vi rubo pochi secondi all'epoca vennero repertati dei capelli venne fatto un DNA dopo l'arresto dei Savi venne fatto un altro DNA con il consenso con tutte le forme rispettate naturalmente il DNA post arresto Savi è negativo nel senso che i capelli non sono né di Fabio né di Roberto nella fase in cui questi signori ritrattano Roberto dice a chi vi sta parlando e poi che andate cercando il DNA è negativo quindi io vi ho confessato una cosa che non ho commesso andate a cercare per così dire il proprietario di quei capelli il signor Roberto Savi nella sua scaltrezza che è solo tale ma non intelligenza usa notizia giornalistica nel senso che i giornali avevano parlato di questo esito negativo del DNA è sempre stato un po' un colabro del segreto istruttorio se ne rendiamo conto e però non poteva sapere il signor Roberto Savi e quindi viene colto in fallo in questa sua ritrattazione anzi in questa sua in questo suo presunto riscontro alla ritrattazione non poteva sapere che era già stato fatto in allora un altro DNA che aveva detto che quei capelli potevano essere del signor Primo Zecchi cioè quella che sembrava una novità processuale devastante alla fine è stata una tempesta in un bicchier d'acqua perché è vero che quei capelli non sono né di Savi Fabio né di Savi Roberto ma il DNA precedente aveva concluso che potrebbero essere addirittura del signor Primo Zecchi un attimo prima di morire credo che può succedere di tutto circa la compatibilità oltre alle confessioni della rapina presso il supermercato Crai di Longara avvenuta alle 19 e il successivo tentato a rapina con tentato omicidio Bonafè omicidio Zecchi non ci sono dubbi ve lo dimostreremo abbiamo rifatto l'esperimento su strada in 25 minuti si copre abbondantemente il tratto di strada ma c'è di più un cliente riconosce nel fotogramma di quella rapina di Cesena della quale vi ho fatto cenno in precedenza dove venne immortalato il volto di Savi Fabio riconosce costui come uno degli autori dell'episodio avvenuto a Bologna 19 e 30 poco prima dell'omicidio del signor Zecchi andiamo avanti dunque questo è del 6 ottobre 90 la banda tace e silente su Bologna fino al 10 dicembre 1990 inizia quel dicembre di sangue quel terribile dicembre di sangue cui ho fatto cenno in precedenza sono le ore 19 e 40 di quel giorno e presso il campo nomadi di Santa Caterina di Quarta località della periferia bolognese i dimoranti si apprestano a passare la serata e poi la notte giungono verso quell'ora 4 4 individui a bordo di una Fiat 1 di colore bianco ciò che accade la dinamica ve la racconterò nel dettaglio quando naturalmente andremo ad affrontare questo episodio sparano due armi ma verso chi e verso cosa e perché sparano questo verso chi e verso cosa l'abbiamo capito perché abbiano sparato questo non l'abbiamo capito insomma sparano verso le roulotte voi capite che una roulotte offre anzi non offre alcuna resistenza è carta velina anche perché non sparano con una cerbottana sparano con un revolver il solido quello di Roberto un 357 e con il fucile AR70 quel fucile d'assalto del quale vi parlavo poco tempo fa sparano sparano al punto che ben nove persone rimangono ferite chi fuori chi dentro le roulotte qui hanno la contestazione di pluritentato omicidio perché va bene ai feriti poi si allontanano questo fatto ci viene confessato da Roberto e da Fabio con i riscontri di cui vi ho parlato in precedenza delle donne e però gli autori sono quattro abbiamo le testimonianze sono quattro persone che viaggiano a bordo di quell'auto non si scappa sono testimonianze raccolti in allora e siamo al 10 di dicembre 90 22 dicembre 90 ore 13 due cittadini extracomunitari si guadagnano più o meno la vita lavando i vetri parcheggi per cop di via De Gasperi Bologna ad un certo punto arriva una vettura Golf di colore scuro e il revolver Smith & Wesson di Roberto Savi spara e ferisce entrambi e stavolta non c'è nemmeno la scusante o la giustificazione della prova del fuoco perché il fatto ci viene confessato da Roberto e da Fabio non abbiamo motivo per ritenere che ci siano altri responsabili per cui questo è ancora meno spiegabile vi ricordate la prova del fuoco Roberto Fabio Gugliotta lì almeno dovevano iniziare l'alunno stavolta no Perizia che ci dice che ha sparato quella pistola antivigilia di Natale 1990 ore 8 e 15 questa volta la scena si sposta presso il campo nomadi di via Gobetti sempre a Bologna quasi prime ore del mattino a dicembre fa freddo arrivano dopo un certo andirivieni comunque arrivano due vetture due di media cilindrata entrambe di colore bianco in totale sei persone questa volta spara una sola arma il fucile AR70 quel fucile d'assalto di Roberto Savi però stavolta sul terreno rimangono prive di vita due persone bellinate dalla Santina nomadi vengono ferite altre due persone tra le quali una piccola nomade di sei anni guardate le fotografie anche di questi signori di queste povere vittime attenzione quel giorno o la sera prima di questo fatto il bisogno di sangue di questi volgari assassini era ben maggiore perché riguardando le carte siamo andati non a scoprire a rivedere che la sera prima dell'assalto di via Gobetti quindi l'assalto è del 23 dicembre la sera del 22 quindi il giorno del duplice tentato omicidio verso nei confronti dei cosiddetti lavavetri un nomade giostraio che noi abbiamo identificato non c'è problema nota intorno alle ore 20 presso il campo nomadi di Granarolo una Fiat 1 bianca con tre persone a bordo attraversare l'area di sosta chi erano queste persone noi non diciamo con certezza che erano colori quali voi giudicherete non abbiamo nessuna prova abbiamo un elemento di riflessione che io vi sottopongo il giorno prima dell'eccidio presso il campo nomadi di via Gobetti presso altro campo nomadi in quel di Granarolo una Fiat 1 bianca guarda casa con tre persone a bordo transita non sapremo mai se quella sera qualcosa andò storto e quindi la vettura transitò senza ulteriori danni sul terreno probatorio tornando all'eccidio del campo nomadi di via Gobetti abbiamo le confessioni di Roberto e Fabio ma le persone erano sei quindi ce ne mancano quattro sicuramente tre all'appello qui si inserisce una signora una nomade che si chiama Bottega Lucilla la quale risiede diciamo così in quel giorno il 23 dicembre del 90 non nel campo nomadi di via Gobetti ma nel campo nomadi di via Dozza di San Lazzaro che cosa succede? attenzione è già stata perpetrata è già stato perpetrato l'eccidio in via Gobetti pochi minuti dopo si raggiunge presso il campo nomadi di San Lazzaro via Dozza la bottega Lucilla vede arrivare una vettura con a bordo praticamente quattro persone quattro vettura Fiat 1 bianca due scendono sono armate una di queste persone è riconosciuta con assoluta certezza come Fabio Savi la donna urla non sappiamo che cosa succede nella mente degli assassini fatto sta che si allontanano attenzione il 23 dicembre 90 Bologna poteva piangere chissà quanti altri morti è molto importante questa testimonianza cerchiamo di ricordarci pochi minuti dopo l'assalto al campo nomadi di via Gobetti è solo e soltanto furia criminale o è altro andiamo avanti incidentalmente dico senza con questo voler accusare nessuno di nulla che interviene sul posto Marino Chipinti il quale firma la relazione di servizio vedremo che diverse relazioni di servizio dopo i fatti di sangue sono firmate più o meno da compartecipi in questo quell'evento addirittura il Savi Roberto e Belardire di ritrovarsi vestendo la divisa però vetture che lui stesso aveva rubato e abbandonato e utilizzato per fatti di sangue 23 dicembre 90 passa Natale passa il 24 passa il 25 Savi Roberto ha già ordinato la seconda R70 attenzione il 27 dicembre 90 ore 17 e 20 presso un distributore esso arrivano due rapinatori che sono Fabio e Roberto Savi sparano contro il signor Farati co-gestore di questo distributore sparano su un cliente che era lì per lavare la propria macchina la propria vettura il signor Pasqui al Pasqui lo uccidono spara un revolver che non siamo riusciti a individuare con certezza e un R70 che è sempre quello di Roberto Savi è il 27 dicembre forse lo stesso giorno aveva già comprato il secondo R70 però non è finita qui questo fatto è accaduto alle 17 e 20 si allontanano da Castel Maggiore in località verso Trebo di Reno a bordo di una Fiat 1 bianca abbiamo la targa abbiamo tutto ormai è buio dicembre alle 17 e 30 in via dell'artigianato o dell'artigiano credo più artigianato esce di casa per regarsi in un circolo lì vicino in attesa di tornare a consumare la scena il signor Pedini Paride la moglie di quest'uomo per abitudine e ve lo dico con certezza perché l'ho interrogata recentemente si affaccia alla finestra per salutare il marito anche quando esce per un paio d'ore che cosa vede questa signora vede che nel cortile antistante il condominio è parcheggiata una vettura un po' di traverso con la luce di cortesia accesa e quindi gli sportelli aperti il signor Pedini a lui invece di far finta di niente si avvicina è curioso da un'occhiata dentro beh un attimo il signor Pedini è lì si sente rombare il motore imballato queste sono le parole usate dai testi che poi è la moglie del Pedini arrivare in un baleno alle spalle del marito in prossimità del marito boom boom il signor Pedini non c'è più ammazzato anche lui che senso ha anche questo ma che senso ha cioè il signor Pedini al massimo aveva individuato una macchina rubata e allora macchina rubata già abbandonata così come il signor Zecchi Primo ammazzato nell'episodio di cui vi ho parlato prima stava prendendo i numeri di targa di una macchina rubata e allora che senso ha e qui però abbiamo una prova forte oltre le confessioni la signora Fiumi moglie del Pedini poco tempo fa richiamata da noi riconosce senza ombra di dubbio in Savi Fabio la persona che è scesa dall'autovettura Fiat 1 e uccise il marito il dicembre di sangue termina qui passa il 31 l'1 il 2 il 3 il 4 4 gennaio 91 ore 21 e 45 quartiere Pilastro di Bologna una pattuglia dei carabinieri a bordo di una Fiat 1 militare quindi quelle blu e nere per intenderci con la scritta e lampeggiante e tutto il resto svolge servizio di vigilanza fissa presso le scuole presso le ex scuole romagnoli si tratta di un edificio dove all'epoca erano stati alloggiati o ricoverati o comunque in qualche modo ospitati degli extracomunitari perché la vettura dei carabinieri sta là perché tempo prima ma un 20-25 giorni prima presso quelle scuole venne compiuto un attentato incendiario delle persone che poi sono state identificate che non c'entrano in questa questione in questa vasta questione intendendo tutti i fatti con ciò avevano lanciato delle bottiglie Molotov quindi le forze di polizia di questa città ritennero di istituire un servizio che tecnicamente se non erro si chiama dinamico cioè si sta lì e ogni tanto si dà un'occhiata o comunque si svolge un servizio di prevenzione a periodi alterni non so se a giorni alterni a settimane alterne sicuramente servizio diviso tra polizia e carabinieri quella sera toccava i carabinieri allora a bordo di questa vettura Fiat 1 dell'arma ci sono tre carabinieri che si chiamavano Moneta Stefanini e Mitilini Stefanini al volante Moneta gli siete accanto Mitilini è seduto dietro siamo intorno ripeto alle 21.45 una fredda sera c'è nebbia parecchia la pattuglia dovrebbe stare davanti alle Romagnoli ma fa un giro ha già incontrato una pattuglia della polizia quei due poliziotti che dissero boh che importanza è forse hanno anche consumato qualcosa viene ritrovato uno scontrino hanno mangiato qualcosa sono tre ragazzi sono giovani via Casini una strada del pilastro non lontana da quel posto dove i Savi fecero ritrovare quei documenti di Gileno Danilo piano piano li memorizzeremo insieme questi nomi qui c'è stato un processo non possiamo rifarlo ne posso rifarlo io in pochi minuti mi attengo a quelle che sono le risultanze processuali di quella fase vedremo poi che cosa emergerà e se emergerà qualcosa di nuovo di diverso in questo dibattimento quella fase in quel processo è emerso che ad un certo punto all'intersezione tra la via Adanegri e via Casini la Fiat 1 dei Carabinieri viene fatta oggetto di colpi d'arma da fuoco prosegue la corsa che termina 100 150 metri vedremo poi più avanti in località che sinteticamente potremmo definire Mercatino è una piazza contro dei cassonetti dove il lavoro viene compiuto terminato in terra viene rinvenuto Moneta che è riuscito a sparare Stefanini il Carabinieri Stefanini è accasciato al volante il Carabinieri Mitilini è dietro sono massacrati in una maniera terribile spaventosa abbiamo tracce organiche a distanza è terribile ricordatevi il movente che ci hanno raccontato i Sadi andavamo a rubare macchine oppure andavamo a sparare i negri ai negri andavano bene anche i Carabinieri ai negri loro avevano sparato avevano sparato ai lavavetti ma si erano accontentati di ferirli perché massacrano in quel modo questi tre Carabinieri qui la vicenda è complessa è molto complessa è uno snodo fondamentale degli otto anni acclarata con una sentenza di primo grado della quale vi chiederò l'acquisizione è complessa perché noi dobbiamo fare i conti con una testimonia oculare che coraggiosamente in quel processo andò a riferire di aver visto cose e persone compiere gesti criminali è complessa perché ammettere o provare ad ipotizzare ricostruzioni diverse significa in qualche modo portare detrimento accrescimento a questa o a quella teoria noi ci collochiamo nel mezzo e vi chiederemo tramite le acquisizioni testimoniali documentali e probatorie in genere di rifare non in un anno e mezzo il processo limitatamente alla parte dinamica è fondamentale rifarlo perché dobbiamo a questo punto capire se quello che raccontano i savi è credibile se la balistica può essere in qualche modo rivista alla luce dei sequestri e se soprattutto i testi che allora vennero sentiti prima dell'arresto dei fratelli savi non vengano per caso in quest'aula a dirci come uno di loro ha detto al pubblico ministero di aver riconosciuto in fabio savi le fattezze fisionomiche di uno degli autori dell'ecidio nella parte terminale mi rendo conto che non è una prova mi rendo conto che non è una rivoluzione copernicana è un granello con i granelli si costruisce qualcosa o almeno ci proviamo quindi sarà importante affrontare a momento debito questa vicenda risentendo i testimoni io ne ho indotti una cinquantina e vi chiederò di sentirli tutti in questa vicenda per l'ecidio dei carabinieri sparano tutte le armi dei fratelli savi spara il revolver colt python di alberto spara il fucile a r70 di roberto spara il fucile sig manurin quello verde di fabio come dove e quando queste armi spararono la scansione cronologica temporale fattuale la rinviamo a quando affronteremo nel dettaglio la questione qui però corre l'obbligo da parte mia dirvi che siccome ciò che accade quella sera è estremamente complesso ripeto abbiamo due diciamo fasi dinamiche che poi ripercorreremo acclarate con sentenza poi abbiamo una fase che è pur sempre dinamica ma è successiva all'ecidio e ci riferiamo a quel che accadde in località San Lazzaro dove venne rinvenuta bruciata la Fiat uno bianca usata dagli assassini allo stato dai fratelli savi lì abbiamo dei testi oculari che erano per ragioni loro personali in giro quella sera che vedono arrivare la Fiat uno con a bordo delle persone nonché un'altra vettura un'alfa trentatré con a bordo un'altra persona poi ricostruiremo nel dettaglio diciamo così gli equipaggi dato inequivocabile certo di questa ricostruzione di quel che accade a San Lazzaro quando la vettura viene bruciata e che esiste un quarto uomo tre più uno quello della trentatré e questo quarto uomo è un altro allo stato mistero e risolto di questa questione di questa vicenda drammatica ovviamente non sappiamo chi è però le recenti indagini ci hanno permesso di ricostruire e stiamo ancora operando in tal senso perché obiettivamente abbiamo qualche difficoltà ci hanno permesso dicevo di ricostruire i quadranti sarebbero i turni di servizio delle volanti di quella sera abbiamo ricostruito poi vedremo nel dettaglio a quali conclusioni si può giungere però sicuramente prima dell'arrivo della prima pattuglia dell'UCT di Bologna capo pattuglia agente o sovrintendente Cozzoli Poli allo stato attuale delle nostre conoscenze probatorie che hanno veicolato nel fascicolo atti di altri processi forse qualcosa ci è sfuggito se ci è sfuggito prego che qualcuno ci segnali la svista allo stato attuale delle nostre conoscenze prima dell'arrivo di questa pattuglia c'è una persona che da un bar ubicato nei pressi sentito il fracasso i colpi eccetera si reca sul posto presso la Fiat 1 vede si rende conto ricorda che i corpi fumavano è terribile l'immagine ma questa immagine ci conferma l'attendibilità del teste perché questo sinistro vapore che si sprigionava dei corpi dei poveri carabinieri viene riferito pari pari da un verbalizzante credo da Cozzoli Poli quindi il teste è attendibile sul punto è stato lì allora costui arriva gli si para contro una persona in borghese che impugna una pistola che questo testimone ci dice simile alle armi in dotazione alle forze dell'ordine dice vai via vai via hanno ammazzato dei colleghi badate bene tra la fase terminale dell'ultimo momento dell'azione di fuoco e l'arrivo di questa persona possono essere trascorsi intercorsi un paio di minuti i corpi fumano vai via vai via hanno ammazzato dei colleghi questo se ne va il testimone se ne va chi è questa persona noi noi non lo sappiamo approfittiamo di questa occasione per dire a questa persona che se per caso ovviamente se non è coinvolto se per caso passava di lì se per caso un appartenente alle forze di polizia in genere alle forze dell'ordine in genere non ci faccia dannare un altro anno per dargli un nome ed un cognome venga e ce lo racconti non facciamo il Cricelli bis sempre che sia un poliziotto un appartenente alle forze dell'ordine sia ben chiaro noi non lo sappiamo né abbiamo argomenti se non quelli logici che ci vengono indotti dal test per poterlo affermare perché per onestà vi devo dire che il testimone dice era in borghese scendeva da una certa vettura cioè ed era vicino ad una certa vettura forse una Fiat Ritmo la moglie di Costù che si accompagnava l'uomo sembra invece che ricordi una vettura con i colori sociali diciamo così bianca e celeste della polizia certo è che è più compatibile una persona in borghese con una vettura borghese che una persona in borghese con una vettura con i colori comunque non lo sappiamo girano delle voci nel senso che sì forse qualcuno adesso ha paura perché ha taciuto non abbia paura se è un poliziotto se è qualcuno che ha visto quella sera che ci può riferire qualche cosa venga e ce lo dica non ci faccia lavorare inutilmente come ci ha fatto lavorare quella gente di prima perché altrimenti siamo autorizzati a pensare in ipotesi che possa essere il famoso quarto uomo del pilastro di San Lazzaro che passava di lì a controllare il lavoro non lo so a questo punto ogni illazione potrebbe essere buona ma noi non ne facciamo credo che per questo fatto posso accontentarmi e dirvi che gli elementi salienti ve li ho messi a disposizione vi dico solo e non è per suggestionare nessuno ma per amor di verità perché è una verità che emergerà anch'essa dalle carte processuali laddove andremo a parlare di consulenza che una cartuccia il papà del povero carabiniere Moneta consegna giorni dopo l'omicidio del figliolo ad un consulente nominato alla procura della repubblica delle cartucce che Andrea mi sembra si chiamasse che il figlio Andrea deteneva sono cartucce nove per ventuno munizionamento comune si trova in libera vendita beh c'è un dato per carità non significa niente una cartuccia di quelle poche cartucce che il papà del povero Andrea Moneta consegna al consulente una cartuccia è dello stesso lotto o forse sono cartucce nove per diciannove chiedo scusa sono cartucce nove per diciannove è dello stesso lotto di quelle utilizzate per compiere il duplice omicidio presso l'armeria Volturno due maggio novantuno attenzione dire è dello stesso lotto significa poco perché un lotto l'abbiamo verificato non vogliamo essere improbidi o suggestionare nessuno è composto da trentamila pezzi è un dato che io consegno alla vostra attenzione nel corso delle indagini scusi prego nel corso delle indagini integrative abbiamo altresì accertato che il carabiniere stefanini qualche tempo prima di essere ucciso manifestò ad una ragazza con la quale intrattenevo un rapporto sentimentale in questa città alcuni timori la cosa ha fatto un po' rumore diciamo così nel senso che è apparsa una novità io non so se è o non è una novità è un dato di conoscenza che vi sottopongo e che poi dettaglieremo nel dibattimento certo che è forte sentirsi dire da parte di questa ragazza e anche da un collega del povero stefanini che proprio il pomeriggio del giorno in cui sarebbe stato poi ucciso sentirsi dire da entrambi che ebbe un atteggiamento emotivo incomprensibile abbracciò lungamente la ragazza insomma entrambi arrivano a dire virgolette sono parole loro come se se lo aspettasse chiuse virgolette ci rendiamo conto dell'estrema delicatezza di questa questione ce ne rendiamo perfettamente conto però sono carte processuali e io ho il dovere di sottoporle alla vostra attenzione senza commento alcuno in questo momento va bene vedremo poi le indagini vedremo tutto il resto 15 gennaio 91 siamo su una statale verso Pianoro vicino Bologna ore 18 e 30 distributore Agip arrivano Fabio e Roberto Savi sono armati è presente sul luogo libero dal servizio comunque non per ragioni di servizio la loro brigadiare Tamiazzo c'è un conflitto fuoco e il Tamiazzo rimane ferito spara il revolver di Roberto Savi il bocchino è un milione e due viene usata una fiatuno grigia chiedo scusa torno indietro un attimo al pilastro è naturalmente una vicenda sterminata quella gli ho dedicato 10-15 minuti non vi voglio prendere la giornata impossibile però un'altra cosa ve la devo dire su quella su quella storia Roberto Savi ci dice ci racconta la dinamica poi la vediamo la vedremo ma insomma io si sparai prima con la R70 poi faccio per scendere dalla macchina siamo nell'ultima fase qualcuno risponde al fuoco io non faccio il tempo neppure ad esplodere dei colpi perché rimango ferito e si tocca istintivamente la pancia insomma lo stomaco quella zona là il passaggio è fondamentale è fondamentale perché è vero che si rispose al fuoco quella sera da parte dei poveri carabinieri sicuramente da parte di Mitilini con l'M12 quella che chiamiamo mitraglietta da parte di Moneta con la pistola d'ordinanza la Beretta il quale sicuramente spara nell'ultima fase su questo non c'è dubbio vengono trovati i bossoli intorno e sotto il proprio corpo allora vi dicevo Roberto Savi dice rimasi ferito allora ci si attiva le indagini vengono un po' coordinate alla fine si decide di fare quello che è normale prima si fa una normale visita Roberto Savi venne visitato in una prima volta sommariamente addirittura in un ufficio della questura in quel momento anche per questioni proprio obiettive di luce non si vide nulla poi venne rivisitato meglio in quel di Peschiera stavolta con le garanzie e tutto il resto e si notò un piccolo taglio una piccola cicatrice sulla pancia esame radiologico confermò l'esistenza di un corpo estraneo ma che cos'è? boh ulteriore esame non invasivo non invasivo ci conferma l'esistenza di schegge metalliche allocate diciamo così nella pancia è un'ecografia non mi viene il termine nella pancia di Roberto Savi a quel punto chi vi parla dice vabbè abbiamo la confessione il fatto che i carabinieri hanno risposto al fuoco poi questo ci ritratta beh io mi permetto di chiedere a Roberto Savi formalmente dagli atti signor Savi si vuol sottoporre ad intervento chirurgico le estraiamo queste schegge e vediamo che roba perché perché Savi nella fase delle ritrattazioni dice no no caro pubblico ministero io gli ho detto una balla io non mi sono ferito quella sera al pilastro io non c'ero allora come sei ferito ma sta maneggiando una specie di aggeggio esplosivo mi scoppietta tra le mani mi fa vedere una micro traccia su un'unghia anzi su un polpastrello e sostiene che un pezzetto di quell'aggeggio che stava maneggiando le si conficca gli si conficca in pancia gli dico bene Savi e allora forse non è piombo è qualcos'altro ci faccia fare un tagliettino due ore di anestesia e tutto è risolto no il signor Savi dice no no io non vi faccio fare nessun tagliettino e allora che ritrattazione è? perché non si fa operare? perché forse teme che quelle micro tracce non micro tracce quelle schegge siano piombo le ogive sono di piombo le ogive delle cartucci i proietti quindi questo è un particolare importante su questa ferita la moglie la 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 ceccarelli Anna Maria sempre a chi vi parla in un verbale raccontò diffusamente con dovizia di particolari l'arrivo del marito ferito sorretto dai fratelli come si curò dove dormirono quella notte su delle coperte in cucina gli antidolorifici che prese e poi guarda caso per tre o quattro giorni il signor Roberto Savi è assente dal servizio prendiamoci stiamo parlando di una ferita forse dolorosa ma sicuramente non dico sopportabilissima ma sopportabile e comunque la posta in gioco era tale che un po' di sopportazione è legittimo attendersela va bene se mi dovesse tornare in mente qualcosa farò una piccola retromarcia dell'omicidio del tentato omicidio di Amiazzo vi ho parlato arriviamo al 20 aprile del 91 ore 19.45 dovrebbe essere un sabato altra storia che ha dell'incredibile criminalmente parlando siamo presso il distributore Agip di via Lepido Bologna proprietario di questo distributore è il signor o coproprietario di questo distributore è il signor Bonfiglioli Claudio definito benzinaio beh oddio il signor Bonfiglioli Claudio non è proprio un benzinaio inteso nel senso che comunemente si dà questo termine non è uno che va lì con la pompa in mano e riempe i serbatoi prima di tutto il signor Bonfiglioli Claudio è laureato in farmacia il suo il sogno della sua vita è quello di aprire una farmacia o di gestire un esercizio del genere frequenta l'ordine dei farmacisti di Bologna è coproprietario di un albergo cittadino l'hotel Amadeus che insomma è un albergo di fascia alta è coproprietario di altri distributori e quindi non è il benzinaio nel senso che non lo possiamo accomunare non per far distinzione di classe mi sembra ovvio ai veri e propri assalti alle pompe di benzina di cui ad altri eventi criminosi vi dico questo perché sulla storia di Bonfiglioli Claudio abbiamo lavorato sulla storia personale di Bonfiglioli Claudio abbiamo lavorato stiamo lavorando perché è un omicidio che non ci convince lo diciamo forte e chiaro non ci convince per niente primo perché il Bonfiglioli Claudio non si capisce è abbastanza confusa la ricostruzione se avesse l'abitudine o meno di recarsi a prelevare in orari stabiliti il denaro contenuto nella colonnina self service attenzione è molto importante questo passaggio stiamo parlando di una rapina in pratica ad una colonnina self service non ad una persona fisica che ha il borsello con i soldini dentro vuol dire che io debbo aspettare che qualcuno vada ad aprire materialmente la colonnina e prende il denaro se no faccio un furto con violenza le cose ma furto è altrimenti se non voglio aspettare che qualcuno vada sulla colonnina faccio una rapina al benzinaio col borsello no quel pomeriggio quella sera 19.45 si sceglie un'altra strada si attende che il signor Bonfiglioli Claudio si rechi presso la colonnina self service dove è contenuto il denaro lui faceva il giro di varie pompe di benzina poi ricostruiremo il percorso e lo vedremo dall'ombra saltano fuori due persone qui non abbiamo testo oculari abbiamo le confessioni la perizia balistica che ci dice che spara la Smith & Wesson di Roberto allora queste due persone alle 19.45 ora in cui i distributori erano chiusi dovevano avere dico io logicamente un estremo bisogno di denaro perché sono lì aspettano che arrivi il gestore come potessero sapere che a quell'ora arrivasse il Bonfiglioli credo che sia una bella domanda non vi so rispondere per adesso saltano fuori forse il Bonfiglioli li affronta con se ha anche un cane boom boom non c'è più Bonfiglioli non c'è più nemmeno il cane ammazzati tutti e due bene 19.45 avevano bisogno di denaro giusto? sono lì aspettano e che cosa troviamo noi o meglio che cosa trovano allora gli investigatori giungendo sul posto banconote da 10.000 sparse lungo il perimetro comunque vicino all'area dell'Ecidio c'erano circa 800.000 lire o poco meno nel colonnina self service questi signori che aspettano un'altra persona per rapinarla in assenza di testimoni oculari in una situazione di oggettiva diciamo così tranquillità sono così interessati al denaro che se ne perdono i tre quarti per la strada io nel capo di imputazione per decenza ho contestato poche decine di migliaia di lire ci potrebbe stare addirittura la tentata rapina per omesso conseguimento del profitto su questo omicidio continuiamo a lavorare andiamo avanti passa il mese di aprile già che ci sono rapinano un paio di caselli tentano un pilastro bis a Rimini sparando contro tre carabinieri a bordo di una vettura se non era un aritmo doveva essere quella dell'arma comunque non è vicenda processuale che ci compete arriviamo al 2 maggio del 91 ore dieci circa del mattino siamo in quella via Volturno che vi ho detto all'inizio è incastonata nel cuore storico nel centro storico di questa città dipendenza quella zona là sono le dieci del mattino l'armeria Volturno è gestita dalla signora Licia Ansaloni la quale si avvale della collaborazione di Pietro Capolungo da diverso tempo carabinieri in congedo che è lì e presta la propria opera sono le dieci del mattino più o meno anzi sono le nove un quarto nove e venti diciamo va sugli orari poi saremo precisi al momento opportuno a memoria non me li ricordo tutti comunque sicuramente dopo le nove c'è una persona che deve acquistare un'arma perché gli appassionati di armi in questa città sono tantissimi è stata una scoperta sono veramente tanti e deve acquistare un'arma si intrattiene e osserva una scena un signore alto vestito con giacca e cravatta chiede ottiene di vedere una pistola Beretta calibro nove per ventuno le uniche che sono in libera vendita la maneggia la scarrella che in gergo vuol dire tirare avanti e dietro il carrello di armamento la usa la tratta la vuole acquistare sembra che la signora anzi è sicuro che la signora dica a costui di piantarla di smetterla di non manomettere l'arma di non che se vuol fare quelle cose se la comprasse passa del tempo questo signore è sempre lì ed è lì per un certo lasso di tempo anche il testo oculare signor Tugnoli passano i minuti ma la signora Alice Anzaloni è sola signor Tugnoli poi ci descrive questa persona ne descrive le fattezze l'abbigliamento intravede la persona più bassa su questa abbiamo delle descrizioni che ci provengono però da una testa esterna diciamo così al luogo dell'evento allora questo è lì scarrella Tugnoli esce perché deve andare a cambiare un assegno per fare un bancomat ed è sicuro l'abbiamo riscontrato dopo ve lo dimostriamo e nel negozio rimangono in tre e ancora non succede niente il signor Capolungo Pietro in quei minuti attenzione tutto si gioca per cercare un possibile movente che non sia quello risibile che ci hanno raccontato i savi tutto si gioca su quello che accade o su quello che si aspettava che accadesse in quei minuti il signor Capolungo Pietro non è nell'armeria dove siamo intorno alle dieci meno un quarto dieci meno dieci lo scopriremo dopo dov'era perché guardando pazientemente tra le carte troviamo una relazione di un ispettore del commissariato due torri San Francesco atto che poi verrà utilizzato ovviamente che ci dice posto il sette l'otto di gennaio adesso non mi ricordo il signor Capolungo Pietro era venuto quella mattina nei nostri uffici dove abitualmente si recava per curare le pratiche amministrative denunce cessioni acquisti c'è tutta una burocrazia molto pesante peraltro che bisogna osservare e che seguiva il signor Capolungo quindi il signor Capolungo esce più o meno intorno alle ore dieci dal commissariato due torri San Francesco e quelli sono là scarrellano allora per impegnare il percorso per coprire il percorso tra il commissariato due torri San Francesco e l'armeria Volturno di passo normale ci voglio una decina di minuti all'incirca è un esperimento che abbiamo fatto ed è banale il signor Capolungo arriva a questo punto non abbiamo più testi oculari ci si mette di mezzo anche un blackout Enel poi andremo a vedere se ha o meno rilevanza può avere rilevanza perché la porta si liberava dall'interno con un meccanismo elettrico eh attenzione il signor Capolungo arriva il risultato è che intorno al mezzogiorno torna quel signore di prima quel test il Tugnoli ha fatto le sue operazioni vuole comprare la sua pistola sta lì non si vede nulla la luce è accesa però dice boh che è successo si rivolge ad un vicino di negozio se non erro titolare di un negozio di stoffe insomma cominciano un po' ad insospettirsi passa una pattuglia dei vigili urbani guarda caso quella stessa pattuglia che se fosse passata due ore prima poteva bloccare gli assassini quindi un margine di insuccesso e di rischio elevatissimo e poi ci spiegheranno il momento passano tutti i vigili urbani bene è chiusa allora il signore del negozio a fianco quello di stoffe quello che vende stoffe dice no ma c'è un corridoietto comunicante andiamo su questo corridoietto si guarda si vede che la porta che dà sul retro è socchiusa socchiusa si spinge un attimo la porta e addossata addossato alla porta c'è il corpo della signora Lician Saloni con vicino a fianco se non in parte addirittura sovrapposto il corpo il corpo di capolungo Pietro a quel punto partono naturalmente tutti gli allarmi del caso via Volturno si popola di macchine della polizia dei carabinieri abbiamo una ripresa televisiva in cui si vede in primo piano il signor Savi Roberto con la camicia blu di appartenente alla polizia di stato perché il signor Savi Roberto era montato di servizio un paio d'ore dopo l'ecidio modalità del fatto è chiaro le dobbiamo desumere soltanto dalle dalle confessioni degli imputati ci dicono costoro avevamo bisogno di due pistole nove per ventuno perché ci piacevano perché non volevamo più usare le pistole a tamburo in quanto le nove per ventuno sono più precise avevamo voglia di questa nove per ventuno falso il signor Savi Fabio il sette gennaio dell'ottantotto aveva acquistato e deteneva ancora all'epoca guarda caso una pistola Beretta calibro nove per ventuno Giobbe la voleva Roberto due morti falso pochi mesi dopo Roberto si rega a San Marino e compra una pistola calibro nove per ventuno marca Beretta allora è inutile che indugi più di tanto perché non la potevano comprare legittimamente invece di andare in via Volturno a massacrare lì Gian Saloni e Pietro Capolungo dicevo le modalità loro ci dicono eravamo lì sapevamo quello che ci accingevamo a fare tanto è vero che Fabio aveva in tasca un caricatore con delle cartucce nove per diciannove il più contiene il meno il nove per diciannove lo può sparare il nove per ventuno perché il diciannove è più piccolo di ventuno e questo vale anche per i calibri naturalmente ad un certo punto prende la pistola inserisce il caricatore arma la pistola boom boom quattro colpi lì Gian Saloni e Pietro Capolungo sono morti si portano via queste due pistole perché nel frattempo se ne hanno fatta mostrare anche un'altra abbradano completamente trapanando in profondità l'arma e questa arma poi spara in Romagna e torna anche in altri episodi vi sembra sensato come movente vi sembra plausibile come movente io credo di no ma lo vedremo e lo dimostreremo intorno a questo fatto di sangue si sono scatenate le illazioni più incredibili noi non facciamo illazioni rimaniamo ai fatti cercheremo di capire che indagini sono state fatte che riscontri sono stati cercati quali documenti sono stati esaminati documenti che ancora oggi ogni tanto troviamo un po' di confusione c'è stata obiettivamente andiamo avanti se posso se vogliamo sospendere ditemi voi quanto tempo bisogna ancora? Presidente siamo al 2 maggio 91 c'è ancora un po' di fatti e poi vi devo chiedere testi e documenti lo sospendiamo va bene il problema è chiudere alle 15 quindi aggiorniamo l'udienza alle ore 15 va bene ci siamo tutti? va bene la parola allora al pubblico ministero grazie allora prima della conclusione avevamo affrontato il duplice omicidio presso l'armeria Volturno di Bologna per sottrarre quelle due pistole dal 2 maggio 91 per un periodo di tempo che giunge fino al febbraio 92 vale a dire per quasi un anno dieci mesi su Bologna non accadono più fatti delittuosi ascrivibili con certezza agli imputati di fatti delittuosi però ne accadono a Iosa in Romagna e quasi sempre anzi sempre in sette episodi romagnoli sparano le due 9 per 21 rapinate presso l'armeria Volturno potremmo dire che con la rapina presso l'armeria Volturno riprendendo le parole del senatore Gualtieri per un certo periodo cessa la seconda fase quella degli omicidi incomprensibili gratuiti e ferati sanguinosi e privi di profitto o privi di profitto apprezzabile in proporzione agli eventi cagionati ci sono accenni schegge significative che forse il ragionamento del senatore Gualtieri ci può stare una scheggia significativa chiamiamola così la troviamo il 24 febbraio del 92 quando riappare la banda a Bologna alle ore 7 e 45 in via Gagarin presso la banca Carimonte dove Roberto Fabio ed Alberto tutti confessi sul punto con tecnica da rapinatori doc senza torcere un capello a nessuno si portano via 301 milioni sarà interessante poi vedere i versamenti sui conti correnti degli imputati e noteremo parecchio contante che transita nel periodo successivo a questo fatto siamo sempre in questa terza fase chiamiamola così passatemi la schematizzazione quando arriviamo al 26 di agosto 92 ore 7 45 perché un'altra caratteristica del modus operandi soprattutto per le rapine in banca è quella era quella di arrivare poco prima dell'orario di apertura fermare un impiegato il direttore o comunque un dipendente della banca introdursi all'interno dell'istituto e lì dare corso poi all'operazione sempre con estrema freddezza e sicurezza in alcune occasioni addirittura gli autori attenderanno 7, 8, 10 minuti l'arrivo del dipendente che aveva le seconde chiavi della cassaforte un bel coraggio forse erano sicuri potevano contare su una copertura non lo sappiamo certo è che potevano conoscere la dislocazione delle pattuglie questo è chiaro visto il lavoro che facevano dicevo 26, 8, 92 alle 7, 45 con la tecnica che vi ho appena tratteggiato presso la cassa di risparmio di San Biagio di Casalecchio di Reno si presentano Roberto e Fabio Roberto è confesso sul punto Fabio non è confesso però nell'attività integrativa di indagine svolta recentemente due dipendenti per la precisione il direttore di un'impiegata Morara Alessandro e Flandi Maria Grazia ci riconoscono senza ombra di dubbio Savi Fabio come uno degli autori della rapina anche in questo caso colpo da manuale non viene torto un capello a nessuno 160 milioni di bottino quindi dal 24 di febbraio al 26 di agosto in sei mesi due colpi 461 milioni di bottino tornano ad operare fuori dal circondario di Bologna quando il 24 febbraio del 93 quindi dall'agosto del 92 passiamo al febbraio 93 nuova rapina anche questa da manuale solo che questa volta si rischiatena la furia stiamo parlando della rapina al credito romagnolo di reale di Zola Predosa condotta al pari delle precedenti con modalità delinquenziali diciamo così di alto livello bottino 104 milioni purtroppo una volta usciti nel corso di una complessa operazione di cambio macchina perché dopo ogni evento veniva immediatamente cambiata l'autovettura Massimiliano Valenti un giovane di 22 anni non ricordo male ha la sfortuna di transitare a bordo del proprio veicolo commerciale il tutto accade intorno alle 8 del mattino quindi la giornata lavorativa si apriva anche per Massimiliano Valenti iniziava ha la sfortuna la maledetta sfortuna di transitare da quelle parti di vedere qualcosa o di ingenerare in Roberto Savi e Fabio Savi il dubbio che possa aver visto qualcosa anche qui è inspiegabile non è che hanno eliminato fortunatamente in maniera sistematica tutti i testimoni in fondo si ha visto qualcosa Massimiliano Valenti cosa aveva visto ha visto due sconosciuti a bordo di una vettura rubata fatto sta che il Valenti viene costretto a fermarsi viene con la forza fatto scendere dal mezzo viene brutalmente fatto salire a bordo di una delle vetture utilizzate dopo la rapina viene visto allontanarsi in compagnia di questi due delinquenti da alcuni testimoni di Massimiliano Valenti poi non sapremo più nulla per qualche ora vale a dire fin quando un cittadino non segnala la presenza di un corpo abbandonato sul greto di un torrentello di un canale il corpo di quel povero ragazzo era quello di Massimiliano Valenti non abbiamo testi oculari del fatto abbiamo la ricostruzione lucida sia di Roberto che di Fabio i quali sono confessi sia in ordine alla rapina che in ordine all'omicidio o sarebbe meglio dire all'esecuzione di Valenti Massimiliano viene usata una pistola una delle due pistole Beretta sequestrata a Roberto e rapinata sequestrata dalla polizia Roberto e rapinata alla Voltur riscontri non abbiamo solo le confessioni di Fabio Roberto e la consulenza balistica abbiamo dei testi anche questi individuati nel corso dell'attività integrativa di indagine che riconoscono senza ombra di dubbio nei due soggetti gli autori della rapina nonché nei due soggetti in modo particolare in Savi e Roberto gli autori del tra virgolette sequestro di persona in danno di Massimiliano Valenti sulla dinamica del fatto ci metteremo in prova con numerose persone ma sinteticamente i fatti sono questi quindi diciamo per aderire così a questa ipotesi che forse non è tanto un'ipotesi della terza fase qui abbiamo una variante che però si innesta in una logica di profitto che viene realizzato direi compiutamente ricordo 104 milioni rapinati poi arriviamo al 10 marzo del 93 rapina tranquilla tranquilla Fabio Roberto e Pietro Gugliotta tutti e tre confessi da manuale anche qui cassa di risparmio di Ravenna di via Barelli a Bologna 72 milioni non si esplodono colpi nulla le belve si riscatenano il 7 ottobre del 93 quando tentano una rapina presso la cassa di risparmio di Vignola che non frutta per un problema diciamo così tecnico l'impossibilità di ottenere nell'immediatezza le chiavi non frutta nulla la dislocazione di questa banca è particolare vicino ci sono dei negozi un'officina insomma il colpo va vuoto ma Roberto Fabio e Pietro non si accontentano evidentemente e Roberto su istigazione sembra del lungo cioè di Fabio esplode colpi di Kalashnikov questa è un'arma nuova è un'arma ma illegalmente detenuta che proviene dall'Ungheria importata clandestinamente perché i Kalashnikov non possono essere detenuti da privati cittadini che spara aveva già sparato per la verità probabilmente alle poste comunque vi ricordo il tipo di arma sparano ci sono delle pagine e pagine di verbale sul punto che sono raccapriccianti spara Roberto Savi come se sparasse su De Birilli comunque vengono feriti i signori Prata e Peppoloni viene ferito il signor Poli il quale poi morirà a seguito delle ferite nei giorni successivi non prima di aver comunque fornito delle dichiarazioni assai significative sul punto e che poi analizzeremo nel dettaglio quando ve le produrrò trattandosi di atto ovviamente ormai irripetibile altro bagno di sangue gratuito tornano ad operare in maniera per così dire pulita il 12 ottobre del 93 presso la banca di Roma di via Ferrarese qui a Bologna è una rapina commessa da Roberto Fabio e Pietro tutti confessi 76 milioni di bottino solita Fiat 1 utilizzata abbiamo dei testi oculari che ci riconoscono sempre nell'attività integrativa sia il Savi Fabio che il Gugliotta Pietro sul punto peraltro il Gugliotta è confesso perché vi ricordo che Gugliotta Pietro ha ammesso tutti i fatti incruenti 27 ottobre 93 altra rapina pulita cassa di risparmio San Ruffillo di via Toscana a Bologna ormai la batteria sembra che funzioni bene la batteria di rapinatori intendo Roberto Fabio e Pietro tutti confessi 30 milioni di bottino 20 gennaio 94 evidentemente rimasti soddisfatti della precedente rapina Roberto e Fabio tornano presso l'agenzia di via Barelli era già stata rapinata in precedenza e si portano via in maniera assolutamente pulita 83 milioni qui abbiamo Roberto confesso Fabio non confessa ma ci importa poco perché alcuni impiegati riconoscono entrambi gli autori come gli stessi che rapinarono la banca le parti dall'ospedale maggiore che non frutta nulla e che si conclude con la gratuita violenza perpetrata nei confronti dei signori Santini e Convertino feriti in maniera seria e rilevante con la famigerata ormai pistola Beretta 98 sequestrata alla Volturno che in questo caso è risultata appartenere a Fabio Savi perché a lui venne rinvenuto al momento nella sua disponibilità venne rinvenuto al momento dell'arresto ci avviamo alla conclusione degli episodi criminosi perché colpiscono ancora colpiscono ancora in Romagna siamo in primavera passa l'estate il 6 settembre del 94 tornano a colpire a Bologna rapina pulita Banca Popolare dell'Adriatico Viale Lienin Roberto e Fabio confessi 127 milioni di bottino qui c'è un particolare ve lo racconto brevemente a bordo della vettura Alfa 33 utilizzata per commettere questo episodio questo reato vengono rinvenute vengono rinvenuti tre bossoli calibro 9 percossi sul momento si fecero le ipotesi più disparate non si riusciva a dare una spiegazione logica di questo fatto la spiegazione ce la fornisce Fabio Savi ce la forniscono Fabio Savi e Roberto Savi quando successivamente all'arresto e interrogati anche sul dettaglio diciamo così di fatti nel dettaglio di fatti criminosi minori chiamiamoli pure così ci dicono che quei bossoli li hanno messi loro per sviare le indagini o comunque per lanciare o lasciare un segno un messaggio ci sembra assolutamente incomprensibile francamente non gli crediamo non crediamo loro e invece bisogna poi credere loro perché all'esito della consulenza balistica il consulente ci dice che quelle quei bossoli risultano esplosi da una pistola FEG questo è un nome nuovo si tratta di pistole ungheresi ne vengono trovate tre o quattro che i savi hanno importato tramite l'intermediazione di soggetti di quel paese in Italia questi bossoli calibro 9 risultano esplosi percossi da una pistola FEG vedremo se quando avremo il piacere di vedere se mai vorranno venire gli imputati in quest'aula potrebbero se vorranno approfondire questo aspetto che sarà banale ma io continuo a non capire qui abbiamo delle individuazioni di persona e direi che probatoriamente non ci sono assolutamente problemi siamo nel settembre 94 ci avviciniamo a grandi passi alla fine della banda l'ultimo colpo che commettono a Bologna e in generale avviene il 21 ottobre 1994 alle ore 8 Banca Nazionale dell'Agricoltura via caduti di via Fani qui di Bologna solita tecnica si arriva presto si aspetta qualcuno l'impiegato le chiavi la ricetrasmittente insomma tutto l'armamentario classico della banda per un problema tecnico una porta che non si apre cioè la doppia porta se ne apre soltanto la prima la seconda rimane bloccata per ragioni tecniche questi sparano addosso a tre persone due di queste rimangono seriamente ferite la terza credo che sia il direttore che a parte l'esa ha diventato omicidio ma fortunatamente per lui non riceve nessun colpo nelle carni Amadesi e Zappoli ne ricevono e Amadesi ne riceve in maniera veramente terribile perché non potrete mai vederlo il signor Amadesi credo nel senso che a meno che non ci siano stati dei miglioramenti o delle consulenze mediche che vi leggerete insomma è una vita non è più vita insomma quella del signor Amadesi stava andando a lavorare come gli altri fatto di sangue anche questo di violenza bestiale sembra effettivamente che questo ultimo fatto ci riconduca le stagioni più oscure e terribili di questa banda sembra che quel giorno non interessasse il denaro comunque spara la pistola Beretta 98F sequestrata a Fabio Roberto e Fabio sono confesse ecco qui però si apre il discorso esito delle indagini perché già sappiamo che come dire da un po' di tempo c'era il fondato sospetto dubbio che si potesse trattare di persone in qualche modo appartenenti alle forze di polizia alle forze dell'ordine in genere a gruppi militari o paramilitari insomma ho fatto cenno a quella nota diramata ora qui accade l'imponderabile forse una grossa leggerezza commessa dai fratelli forse un eccesso di sicurezza non lo sappiamo la vettura che viene utilizzata per quella rapina quella della 24 21 chiedo scusa ottobre 94 una Fiat 1 targata Ravenna viene rubata praticamente se non sotto casa quasi ne pressi o in via signorini strada dove abitava Savi Roberto ci sono dei testimoni escussi ripetutamente eccetera eccetera i quali riferiscono alla questura di Bologna di aver visto allontanarsi questa autovettura con a bordo una persona ma di aver notato prima che questa autovettura si allontanasse parcheggiata una vettura Mercedes targata Forlì primo numero di targa 7 con delle caratteristiche particolari color visone comunque un color metallizzato un'antennina posta in un punto particolare del veicolo si tratta di persone i testimoni appassionate di veicoli per cui notano memorizzano questo questo particolare della vettura del Mercedes targato Forlì Forlì 7 che cosa dicono di significativo quando si allontana la Fiat 1 targata Ravenna quella che poi risulterà utilizzata e quindi quando viene rubata questa vettura la vettura Forlì 7 il Mercedes targato Forlì 7 non c'è più si è allontanato danno delle descrizioni degli autori del furto di colui che venne visto vicino alla vettura targata Forlì 7 io a questo punto poco vi posso riferire delle successive indagini perché della Banca Nazionale dell'Agricoltura era investito il mio ufficio e la mia persona per ragioni di turno erano in corso i dovuti accertamenti non diciamo di routine ma quasi era chiaramente riconducibile alla banda però contemporaneamente perché vi ho sempre detto episodi in Romagna episodi in Romagna ovviamente giustamente altre autorità di polizia altre autorità giudiziarie stavano svolgendo i loro accertamento quindi qui entriamo proprio nella fase finale dopo questa maratona dopo 100 giri di pista qui siamo al photo finish perché indubbiamente bisogna un po' accendere i riflettori su questa fase su questa fase finale sul traguardo il 22 di novembre intorno alle ore 22 mi recai per ragioni di ufficio presso il garage di via Signorini dove abitava all'epoca Roberto Savi in quanto lì era in corso una perquisizione disposta dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini ritenendo il Savi sospettato per tutta una serie di fatti i vi giunto vidi vabbè a parte Roberto Savi il materiale descritto nei verbali di sequestro vi erano moltissime persone perché si era moltissimi ufficiali di polizia giudiziaria e poliziotti di vari uffici criminal pol questura di Bologna scientifica di Bologna questura di Forlì allora commissariato di Rimini dirigenti dello scot tra cui il direttore lo scot è il servizio centrale operativo che è un organismo investigativo con competenze su tutto il territorio nazionale che svolge investigazioni per fatti molto gravi e che quindi non ha diciamo così confini regionali come possono avere le varie criminal pol naturalmente il Savi Roberto venne tratto in arresto per la detenzione di armi e poi inizia diciamo così la lunga sequela degli interrogatori della ricerca dei riscontri e quant'altro come Savi Roberto e Savi Fabio vennero individuati lo spunto investigativo venne preso almeno nella sua fase terminale probabilmente dal Mercedes Forlì 7 perché attraverso una serie di riscontri si acclarò che un tal Savi Fabio possedeva una vettura di quel tipo un Mercedes 200 eccetera poi in base a delle relazioni di servizio e a delle ricostruzioni fattuali già sottoposte all'attenzione della Corte d'Azise dei Rimini due investigatori di quel commissariato Ispettore Baglioni e assistente Costanza spero di non aver sbagliato le qualifiche che si occupavano pressoché a tempo pieno da alcuni mesi di questa vicenda forniscono una ricostruzione di come individuarono in modo particolare Fabio Savi che non vi sto a sintetizzare né a raccontare nel dettaglio perché la potrete ascoltare dalla loro viva voce quando sarà il momento di sentire la loro testimonianza ascoltare la loro testimonianza in pratica attraverso un servizio di antirapina che veniva svolto un po' così presso istituti di credito banca insomma ritenuti obiettivi sensibili sarebbe stata agganciata una certa vettura una Fiat tipo sarebbe stata seguita forse la targa era non leggibile perché coperta di fango attraverso il pedinamento di questa vettura i due ufficiali di polizia giudiziaria aggiungono a Torriana che è una località nel Riminese dove risiedevano Fabio e la sua convivente Evamicula individuano il soggetto che in qualche modo appare alla loro vista certamente anagrafici visione della fotografia come dire congiunzione di questa immagine a quell'immagine di quel fotogramma della rapina di Cesena l'unico fotogramma che abbiamo dei rapinatori è il fotogramma di Fabio Savi su questo non c'è dubbio sulla scorta di ciò si allerta tutto un intuibile complesso meccanismo investigativo a questi tasselli diciamo così si unisce il tassello rappresentato dalla vettura targata Forlissette si elabora il nucleo familiare si vede che il fratello è un poliziotto si firma nei decreti di perquisizione Roberto Savi viene colto in flagranza e viene arrestato non viene interrogato nell'immediatezza in Bologna viene portato a Rimini dove verranno svolti poi ulteriori atti Fabio Savi e la donna e la sua convivente Eva Micula si danno alla fuga perché sia Fabio che Roberto a loro dire si erano accorti di essere in qualche modo oggetto di indagini ormai approfondite c'è da credergli perché Roberto dice facendone nome e cognome di aver riconosciuto dei colleghi della criminal poll dice addirittura che se avesse voluto poteva farli fuori ma non lo fece diciamo noi a noi stessi perché perché non cercare di far sparire almeno qualche arma quelle più compromesse perché cercare non cercare di far sparire quei 200 milioni aveva qualche convinzione interiore il Savi Roberto pensava di farla franca non lo so dico questo perché in parte delle ritrattazioni da lui effettuate in maniera nebulosa confusa e quant'altro ad un certo punto lui ci racconta che anni addietro venne intercettato in una certa località vicino San Lazzaro presso il cimitero dei polacchi da persone che dall'atteggiamento gli sembravano diciamo così appartenenti a servizi di sicurezza o di polizia lui ci dice pensavo in quel momento che ormai per me era finita e invece ah con sé aveva un borsone contenente le armi dice lui e invece costoro praticamente mi chiedono in cambio dell'impunità di offrire dei servizi e qui introduce l'argomento dell'affitto delle armi fantasia realtà menzogne non lo sappiamo sappiamo però e questo è in equivoco che Roberto Savi negli ultimi giorni si era accorto di essere pedinato e non fa nulla per evitare di essere arrestato capisco non gettar via le armi ma i 200 milioni era sufficiente portarli o consegnarli alla moglie dare la valigia a un vicino di casa non lo so era una somma di denaro cospicuo allora Roberto Savi è arrestato Fabio ed Eva sono in fuga scappano verso il confine vogliono forse riparare in Ungheria poi aprirò una piccola parentesi sull'Ungheria fatto è che in una località della dell'autostrada che porta verso il Tarvisio una pattuglia della polizia della polizia stradale controlla comunque si insospettisce intercetta e blocca le due persone sono Fabio Savi ed Eva Micula sembra che Fabio Savi abbia detto ai due ignari poliziotti avete fatto bingo e questi vengono arrestati perché Fabio ha con sé la pistola Beretta 98F rapinata alla Volturno pistola che viene trovata senza colpo in canna priva di munizionamento appunto nella camera di scoppio e probabilmente neppure nella disponibilità immediata ma in un borsone e due due arrestati si procede nelle operazioni di perquisizione la casa di via Signorini di Roberto Savi viene perquisita più volte personale della questura di Forlì ad un certo punto rinviene una video audio cassetta cioè rinviene una normale videocassetta con registrato solo l'audio senza immagini le voci sono quelle di Roberto Savi e altra persona che poi si scopre essere Pietro Gugliotta appureremo attraverso l'escussione testimoniale i meccanismi identificativi della voce fatto sta comunque che il Gugliotta parla con il Savi mentre la videocamera va con il meccanismo non di videoregistrazione per cancellare risparmiavano sulle cassette non lo so c'è uno 200 milioni nella scheda volevano cancellare questa cassetta però non si rendono conto che in tal modo il meccanismo o se ne rendevano conto comunque in tal modo il meccanismo registra le voci il dialogo l'abbiamo ascoltato più volte c'è la trascrizione che chiederò di acquisire parla inequivocabilmente di rapine in banca di fatti delittuosi a fine di profitto il Gugliotta descrive certe modalità e viene arrestato anche lui viene arrestato condotto presso gli uffici del commissariato di grida frasi più o meno in consulte fa riferimento a fatti gravissimi avvenuti in questo paese dice non sapete cosa c'è dietro non sapete cosa c'è dietro poi lo vedremo meglio nel dettaglio tenta di impossessarsi di una pistola di un ufficiale di polizia giudiziaria lì presente c'è un po' di parapiglia gli viene tolta dalle mani dice per spararsi particolare questo che ritorna anche nella condotta di Roberto Savi nell'immediatezza dell'arresto che sembra che il Savi abbia chiesto un colpo inteso come una cartuccia e una pistola ai colleghi che lo avevano ormai smascherato vabbè ed è preso anche Pietro Gugliotta viene interrogato non si fa un passo ulteriore neppure nei mesi successivi sin da subito ammette i fatti sin da subito insomma ci vuole un po' di tempo un po' di pazienza comunque ammette ad un certo punto i fatti incruenti nega tutti i fatti cruenti siamo 24-25 di novembre abbiamo tre persone detenute a questo punto Roberto Fabio Gugliotta nel corso dell'interrogatorio cui ho fatto scenno questa mattina all'inizio quello del 28 novembre che conduciamo presso la casa di Peschiera sul Garda Roberto ci vogliamo dire ci consegna tranquillo tranquillo altri due colleghi che sono Marino Occhipinti e Vallicelli Luca ci riconsegna in relazione ad un modesto episodio criminoso la rapina al casello per entrambi sul sull'Occhipinti ci indica invece come fatto criminoso commesso quella rapina al cop di Casalecchio sulla quale ci sono quei riscontri dei quali vi ho parlato questa mattina l'arma eccetera eccetera intanto e le chiamate in corretà incrociate e le dichiarazioni che Eva Micula comincia arrestata scarcerata e poi dichiarante in quel di Rimini e anche Bologna inizia a rendere si arriva anche ad arrestare Alberto Savi il fratello che in un primo tempo giornalisticamente viene indicato come il buono come colui che piange disperato quando vengono arrestati quando viene arrestato Roberto che ha infangato l'onore della famiglia e la divisa della polizia e lui piange disperato viene arrestato alla stazione di Rimini la stazione ferroviaria di Rimini nelle prime ore del mattino noi eravamo là insieme ai colleghi quando si stava per prendere il treno per regarsi a Roma dove doveva parlare con funzionari del ministero dell'interno perché naturalmente la vicenda familiare era ormai diventata di rilievo e dominio pubblico siamo arrivati a cinque quindi abbiamo Roberto Fabio Alberto Occhi Pinti Vallicelli e Guglio sei persone c'è chi dice bene bravi è tutto finito pulizia è stata fatta perché pulizia è stata fatta su questo non c'è dubbio c'è chi dice un momento ragioniamoci un po' proviamo a ripercorrere vediamo facciamo e a questo punto abbiamo due processi uno che si è celebrato e uno che stiamo iniziando a celebrare adesso per i motivi che vi ho raccontato e che non mi ripeto pensiamo che ci siano altri correi solo due parole due sull'Ungheria e poi vengo alle richieste la Eva Edith Miku la cittadina rumena di lingua ungherese minoranza ungherese in una zona geografica che è al confine con l'Ungheria la Transilvania tra l'altro una zona da Transilvania transita poi in Ungheria lì e fa la la sua vita e lì incontriamo per la prima volta a sicuro delle dichiarazioni rese dalla Eva Edith Miku un personaggio tale Thomas Somogy o Somogy che dir si voglia personaggio che è amico della Eva diventa amico di Fabio conosce anche Roberto una volta in Italia e che dovrebbe essere il come dire procacciatore di armi a favore della banda Kalashnikov pistole di Kalashnikov ne troviamo due di pistole FEG che sono queste pistole ungheresi ne troviamo tre sinceramente allo Stato non credo che siamo in presenza di un clamoroso traffico di armi perché i due Kalashnikov sono anche un po' sbrindellati per così dire anche se micidiali abbiamo tre pistole poi nelle parole abbiamo di tutto questo signore avrebbe dovuto recapitare o procurare a Fabio e a Roberto bombe lanciamissili che per la verità la signorina Eva Etitmigula ci descrive con dovizia di particolari usando anche il termine bellico 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 esatto seppur volgare i cosiddetti missili usegetta cioè quelli che vengono utilizzati una sola volta avrebbe dovuto procurare l'oro del mercurio rosso fantomatica sostanza chimica della quale a tutt'oggi non ci si capisce molto che però ci incuriosì molto all'epoca anche perché ci incuriosì e ci incuriosisce ancora abbastanza l'origine la storia e le condotte della signorina Edith Eva Mikula fatto sta che questo personaggio procura sicuramente agli imputati queste due armi e tre pistole questi due fucili Kalashnikov e tre pistole FEG è oggetto di un'ordinanza di custodia cautelare emessa a suo tempo dal GIP presso il tribunale di Rimini noi non lo abbiamo mai indagato proprio perché quell'autorità giudiziaria ha proceduto e quindi non volevamo duplicare alcun che sul punto noi introdurremo come prova un giornalista che lo intervistò e che ha messo a disposizione nel senso che abbiamo acquisito noi le videocassette dell'intervista che può avere una sua utilità perché in tutta questa storia e adesso l'andremo a vedere nel dettaglio c'è un qualcosa che alleggia questo qualcosa è la fantomatica o presunta o ritenuta tale organizzazione della quale avrebbero fatto parte questi soggetti non è parto dalla nostra fantasia Roberto Savi lo dice più volte lo dice nel corso di alcune traduzioni ce lo dicono gli accompagnatori diciamo così del Savi ce lo lascia intuire nelle ritrattazioni ce lo dice il Somogi che a sua volta lo avrebbe saputo insomma al momento non l'abbiamo dimostrato né sappiamo se riusciremo o meno a dimostrarlo credo però che sia utile e opportuno produrvi questo materiale probatorio oggetto di servizio giornalistico allora dicendo da subito che chiedo veniamo alle richieste che sono conclusive ma mi porteranno via un po' di tempo chiedo da subito l'esame degli imputati perché temo di dimenticharmelo chiedo da subito l'ammissione di tutti i testi di cui alle liste alla lista depositata nonché di tutte le persone i vindicate ai sensi del 210 codice di procedura penale sono diverse chiedo inoltre l'ammissione come prove di tutti i documenti di cui è la lista che adesso andrò a esplicitare e poi vi chiederò l'ammissione di verbali di prove ex articolo 238 acquisite in altri dibattimenti in particolare si tratta di verbali di prove riferiti a due processi banda cop e pilastro e cito del pilastro per la banda delle cop vi chiedo di acquisire ex articolo 238 tutte le dichiarazioni dibattimentali quindi gli interrogatori o esame che dir si voglia di Anna Maria Fontana Costei rappresentò nel corso di quelle indagini un po' la chiave di volta e di svolta in quanto assurgendo al ruolo di vera e propria collaboratrice di giustizia rese importanti dichiarazioni che unitamente ad altri elementi indussero i giudici di primo e di secondo grado a condannare parecchie persone per quei fatti che oggi invece riteniamo di poter ascrivere ai fratelli savi penso che attraverso questa strada non si toglie nulla alla bontà o meno di quelle dichiarazioni e quindi ritengo che sia sufficiente comunque questa è la strada processuale che abbiamo scelto di percorrere sempre ai sensi del 238 vi chiederò l'acquisizione di quattro dei verbali di di interrogatorio di quattro persone quattro collaboratori di giustizia che nel corso del processo del pilastro hanno per così dire fornito l'ambientazione in ordine a ciò che doveva sarebbe dovuto accadere verso la fine del dicembre novanta primi gennaio novantuno e cioè la consegna di una partita di armi che poi avrebbe per coprirne o i responsabili o per dar corso comunque a questa a questo passaggio di armi avrebbe comportato la necessità di eliminare i poveri carabinieri moneta stefanini e mitili allora venendo adesso a spiegarvi un attimo più nello specifico nomi il perché io vi chiedo la audizione tutte queste persone e la acquisizione di tutti questi documenti comincio allora in ordine al delitto di cui all'articolo 416 sono a pagina 1 della lista testi a suo tempo depositata vi chiedo esame testimoniale del dottor Graziano Elio se non ci sono novità possiamo dare per letto se non ci sono novità sì essendo agli atti allora consentitemi di scorrere con gli occhi e di spendere ecco due parole laddove evidentemente può sembrare un po' incomprensibile la richiesta sono tutti funzionari della questura di Bologna funzionari della questura dell'allora commissariato oggi questura di Rimini il vice capo della polizia dottor Gianni De Gennaro sull'attività di impulso e coordinamento credo che sia opportuno e indispensabile sentirlo perché effettivamente dall'estate 94 in avanti queste indagini ebbero un obiettivo impulso e credo che sia opportuno che il dottor De Gennaro racconti il tipo di impulso che venne imposto il dottor Rino Monaco il direttore dello SCOP era presente la sera dell'arresto Baglione e Costanza sono i due ufficiali di polizia giudiziaria a cui ho fatto riferimento in precedenza Pubblico Ministero scusi perché è opportuno accertare l'attività di impulso a partire dal 94 allora è opportuno e direi indispensabile accertarlo perché il dottor De Gennaro venne di fatto incaricato di in qualche modo aiutare dall'alto delle sue capacità e della sua esperienza a risolvere quella che per bocca dell'allora capo della polizia venne definita una priorità assoluta cioè la banda della 1 bianca e dall'estate del 94 epoca in cui questa attività si mise in moto al novembre del 94 passano effettivamente un paio di mesi e allora credo che questo risultato sicuramente brillante conseguito dallo SCOI quindi dalle criminal pol per intenderci possa in qualche modo esserci debba esserci sintetizzato dal dottor De Gennaro il quale peraltro viene indicato come colui il quale nel corso di un'intervista o pseudo intervista riportata dal Corriere della Sera nel mese di settembre 94 viene indicato come colui il quale avrebbe in qualche modo lasciato trasparire il convincimento che ormai si era prossimi a dei risultati abbastanza corposi o comunque si era capito che potevano essere purtroppo appartenenti alle forze dell'ordine ecco perché abbiamo chiesto la citazione del dottor De Gennaro il dottor Rino Monaco è colui che ha condotto operativamente l'ultima fase delle indagini e quindi dell'arresto Baglioni e Costanza sono i due ufficiali di PG dei quali ho parlato prima ecco Moggioli o Moggioli Roberto e Antonini Maria Grazia sono i gestori di un bar di Torriana dove il Savi forse entrava ogni tanto fatto sta ci sembra importante per capire perché noi dobbiamo capire con chiarezza come si è arrivati alla individuazione non per puntiglio ma semplicemente per amore di verità e per comprensione dei problemi ci potranno dire appunto circa in ordine alla frequentazione del bar da parte di Savi di Savi Fabio Maddalena Claudio un altro nome sconosciuto è il vicino di casa di Savi Fabio e Deva Edit Micula il quale ci potrà dire se ha mai visto il Savi Fabio a bordo di una vettura tipo bianca che sarebbe quella vettura che i due investigatori dicono di aver seguito e visto arrivare in Torriana nella abitazione di Savi Fabio credo che sia utile accertare accertare questo sovrintendente Peruzzini la videocassetta ispettore Barbieri sulle indagini svolte ecco ispettore Lancini qui devo spendere due parole allora l'ispettore Lancini è un ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la questura di Rimini il quale il 23 novembre del del 94 quindi il giorno dopo l'arresto di Roberto indirizza una nota al dirigente del commissariato in cui racconta di aver appreso da colleghi che accompagnavano il Savi Roberto che questi nel corso della traduzione avrebbe detto siamo in tanti abbiamo i depositi di armi nel Veneto che comunque lui si sentiva protetto riferisce alcune frequentazioni del Savi in particolare di tale Mazza Riccardo altro poliziotto di Rimini appassionato di armi che ha una storia sentimentale con la moglie di Savi Fabio cioè Angelini Maria Grazia ci riferisce altresì che alle ore 11.15 del 23 parlava con un suo collega che è il test indicato subito dopo il sovrintendente Sciulli della questura di Ancona il quale avrebbe detto al Lancini che Savi Fabio probabilmente sono tutti accertamenti fatti nelle immediatezze quindi che soffrono di imprecisione però sono carte che io credo debba utilizzare dunque il sovrintendente Sciulli avrebbe detto all'ispettore Lancini che il Savi Fabio conosceva e frequentava tale Gagliardini Gabriella soggetto ritenuto appartenente ai servizi di sicurezza perché sia la Gagliardini Gabriella che il Roberto Savi che la moglie del Roberto Savi erano originarie sono originarie del medesimo paese e cioè Cupra Montana alcune fonti avrebbero riferito allo Sciulli cioè al collega del Lancini di Ancona di loro incontri siccome almeno nella prima fase delle indagini sono state fatte tutte le possibili ipotesi credo che sentire i Lancini sul punto sia opportuno per cercare di ricostruire alcuni buchi neri della storia individuale e personale di questi soggetti che a tutt'oggi noi non siamo riusciti ancora a rischiarare veniamo adesso pagina 4 chiedo l'audizione l'esame testimoniale del prefetto ex prefetto attuale onorevole dottor Achille Serra già vice capo della polizia di stato il quale dovrà rispondere in ordine ai seguenti capitoli di prova e cioè sull'incarico ricevuto dall'allora ministro degli interni Maroni per svolgere una ispezione sulla gestione complessiva sia sotto il profilo amministrativo ed investigativo della questura di Bologna nonché sulle attività svolte e sulle conclusioni raggiunte all'epoca è notorio che venne svolta appunto una ispezione da parte del prefetto dell'allora prefetto Serra che giunsa delle conclusioni a delle considerazioni che avrete modo di valutare con serenità in quanto io chiedo oltre che l'esame del dottore Achille Serra già da ora che venga acquisito come documento sia la relazione che gli allegati ad essa per comprendere per capire per ripercorrere quello che poteva essere il clima quell'erba alta come qualcuno l'ha chiamata all'interno della quale può essere cresciuta questa mala pianta perché tre poliziotti erano in servizio sono stati in servizio per parecchi anni presso la questura di Bologna anche in uffici abbastanza nevralgici per il controllo del territorio se ci può dire qualcosa in più sulla relazione e sulla rilevanza anche degli allegati e della stessa deposizione del dottor Serra allora rispetto alle imputazioni ovviamente rispetto alle imputazioni naturalmente la relazione del dottor Serra attiene specificamente all'imputazione di quell'articolo 416 è quell'inciso sfruttando altresì le loro qualifiche di appartenenti alla Polizia di Stato al fine di conoscere lo stato delle indagini anticipando negli eventuali esiti e complici condizione soggettiva che ha anche favorito l'occultamento di armi e munizioni e quant'altro provento delle illecite attività ora non è un mistero per nessuno e per nessuno intendo noi che siamo istituti da questa parte naturalmente cioè noi che abbiamo avuto modo di leggere la relazione che sia da essa che dagli allegati in un coacervo di notizie più o meno rilevanti emerge un quadro direi preoccupante dello stato della questura nel periodo esaminato dal dottor Serra e siccome la questura noi riteniamo poi siete voi sovrani naturale e siccome la questura non è un'entità astratta rispetto alle indagini che all'interno di essa si debbono svolgere e siccome la questura non è un'entità astratta rispetto agli uomini che all'interno di essa operano o avrebbero dovuto operare in accordo in sintonia in comunanza di intenti se c'è marasma forse le indagini non si fanno se c'è confusione forse le indagini si fanno male se ci sono gelosie forse non ci si comunica i dati forse quella che viene chiamata la macchina investigativa gira a un regime di giri minore rispetto a quelli potenzialmente sfruttabili da questo bel motore che è la questura di Bologna onestamente di più di questo non so cosa dirvi io ritenevo e ritengo che sia opportuno che il prefetto che il dottor Serra venga qui a dirci non le sue impressioni ma i fatti ricavati nel corso delle attività da lui svolta vedrete un po' voi dopo il dottor Serra io indico il dottor Antonio Di Pietro sulla consulenza da lui svolta a seguito dell'incarico conferito gli dall'allora presidente della commissione parlamentare stragi senatore Pellegrino circa la ricostruzione sistematica della vicenda uno bianca nonché dei procedimenti penali e delle indagini ad essa connesse dico da subito che la testimonianza del dottor Di Pietro si intende richiesta non essendo teste come dire diretto di fatti incidenti comunque in modo specifico e per fatti intanto fatti investigativi qualora voi intendiate accogliere come documento la relazione del dottor Di Pietro come peraltro indicato già a suo tempo al momento del deposito si rinuncia nel senso che non si insiste nella audizione del dottor Di Pietro ritenendo esaustiva la sua relazione relazione che comunque anche in questo contesto ha secondo noi una rilevanza in quanto il dottor Di Pietro ha raccolto in qualche centinaio di pagine la storia criminale di questo la storia criminale del fenomeno uno bianca ovviamente non soltanto in relazione alle vicende bolognesi ma in relazione a tutte le vicende comparando diciamo così dal suo punto di vista questa storia criminale con vicende giudiziarie alle quali ho fatto scenno questa mattina e anche poco fa e cioè banda dei catanesi eccidio del pilastro e quant'altro credo che sia un documento che possa avere sinceramente credo che sia sufficiente l'acquisizione documentale per me ero scrupolo indicato anche l'escursione personale che possa trovare ingresso in questo processo nel quale è bene non dimenticarlo mai noi non abbiamo un rapporto noi non abbiamo una comunicazione di reato noi non abbiamo una traccia un qualcosa sul quale poter lavorare noi abbiamo un magma incandescente più o meno incandescente per tantissimi episodi che si protraggono nel tempo con decine e decine di protagonisti anche investigativi quindi decine di investigatori che nel corso degli anni entrano sovente escono qualche volta rientrano diciamo su questa scena investigativa allora io in qualche modo cerco anche con qualche sforzo di mettere voi prima ancora che noi naturalmente nelle condizioni di poter avere un qualche punto di riferimento indipendentemente chiaro dalla valenza probatoria e dalla utilizzabilità probatoria piena me ne rendo me ne rendo conto credo però che sia un affresco per così dire un'elaborazione di pregio che può avere ingresso come documento e qualora non lo dovesse avere insisto per l'audizione personale del dottor Di Pietro poi scorro bellato Alessandro va bene pagina 4 è un agente in servizio presso la questura ci interessava anche sapere di alcuni viaggi fatti dal signor Savi nello Zaire per trattare Diamanti sul punto direi che non è l'essenza del capitolo di prova perché ci può anche raccontare le abitudini professionali del Savi e poi qui vedo un nome che è un nome che a me dice molto e sul quale devo parlare Ispettore Buonadio Giovanni Ispettore Polstato già in servizio presso la stizione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica del Tribunale un nostro diretto collaboratore insomma all'epoca chi vi parla ai primi di dicembre 1994 rende torrenziali dichiarazioni che chiamano in causa diverse persone i cui nomi è inutile ricordare in questa sede le quali avrebbero avuto a che fare in modo diretto o indiretto con i fratelli Savi con la banda della 1 Bianca con molta cautela vengono disposte delle perquisizioni ci sono alcuni risultati altri meno comunque sul punto potrebbero essere sentiti i verbalizzanti il fatto sta che dopo un po' di tempo un paio di settimane all'incirca il Buonadio chiede di essere reinterrogato da chi vi parla si presenta assistito dal difensore perché nel frattempo non solo aveva come dire chiamato in reità queste persone ma si era autoaccusato parlando di partecipazione ad alcuni incontri nel corso dei quali sarebbero state progettate azioni delittuose avrebbe visto le armi quindi a un certo punto gli abbiamo sospeso l'interrogatore l'abbiamo considerato indagato di tutti questi fatti chiaramente si presenta col difensore a quel punto e con una consulenza psichiatrica di parte che ce lo dà incapace di intendere volere uso un termine sintetico improprio ma non vuole essere rispettoso nei confronti di nessuno una sorta di incapacità intermittente buona dia intanto era stato raggiunto da contestazioni ve l'ho detto e ritratta tutto oppure questo è un altro bel mistero stiamo parlando di un ispettore di polizia non vi introduco testi che vengono ci raccontano e ritrattano è un ispettore di polizia che vestiva una divisa la vestita per tutto il periodo in cui è stato comunque indagato perché non ci risulta a parte un periodo di assenza per malattia adesso lavora in un altro ufficio naturalmente non lavora più presso la nostra sezione ritratta tutto quanto ci dà una spiegazione che comunque lavora ancora in polizia sì ci dà una spiegazione che onestamente vorrei che foste voi ad ascoltarla in diretta noi a quel punto facciamo quello che è il nostro dovere cioè nominiamo un consulente del pubblico ministerio il quale conclude in maniera più o meno omologa ed analoga al consulente di parte circa questi problemi psichiatrici che avrebbero afflitto il Bonadia all'epoca in cui rese queste dichiarazioni siccome il Bonadia è persona che lavorava con Roberto Savi perché lavorava alle UCT ha lavorato alle UCT per un periodo di tempo che ci racconta anche particolari professionali degli imputati conosceva anche altri imputati ritengo che oltre che per questa sua originale oggi possiamo definirla intrusione istruttoria perché il Bonadia si presenta pressoché spontaneamente da noi in sintesi dice che lui era così convinto che noi avessimo messo le mani sui veri responsabili che pensava che avessimo prove anche su altre persone e già che c'era ci scarica dei nomi di persone che non c'entrano pressoché nulla salvo qualche suo collega perché ci fa dei nomi anche di poliziotti di uno e insomma è un poliziotto in servizio a Bologna che ha conosciuto gli imputati che ha un comportamento quanto meno stravagante per cui credo che sia opportuno sentirlo con le garanzie di legge ex 210 perché nel frattempo sono state prosciolte tutte le persone da lui accusate tra queste persone accusa un soggetto che a suo tempo venne coinvolto in indagini diciamo così in area di destra ce lo individua in fotografia non riusciamo a darci una spiegazione di come possa aver individuato nella giovanile fotografia questa persona che poi individua anche fisicamente nel corso di una visione che gli viene mostrata attraverso il cosiddetto specchio magico comunque nel dettaglio se me lo ammetterete si capirà meglio il dottor Renato Ariatti e niente il consulente sulla consulenza psichiatrica svolta e il conto del pubblico ministero prego per conto del pubblico ministero sì sì per conto del pubblico ministero certo dottor Ariatti Rinaus sulla consulenza psichiatrica svolta sul buonadio Giovanni poi c'è il Marcoccio Aldo è un maresciallo del nucleo traduzioni in ordine ad alcune dichiarazioni fatte poco dopo l'arresto dal Savi dal Savi Roberto circa il coinvolgimento di altre persone nell'organizzazione criminosa Giglioli Tiziana che è una vicina di casa di Savi Roberto circa la frequente presenza di volanti della Polstato i cui occupanti si ricavano presso l'abitazione del Savi idem capitolo di prova identico capitolo di prova per Cala Tafini Michele Tura Stefano è il giornalista della Sederai di Bologna il quale ha raccolto e videoregistrato le dichiarazioni del cittadino Thomas Omoji di cui ho fatto scenno in precedenza documenti relativi a 416 qui sono sufficienti le videocassette oppure necessarie anche le videocassette durano 4 ore e mezzo l'esame del giornalista può durare molto 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 meno allora documenti non dico altro relazione redatta dal prefetto Achille Serra relativi allegati relazione del dottore Antonio Di Pietro due videocassette realizzate da Tura Stefano interrogazione uffici postato dei componenti da banda 1 bianca si tratta di attività di routine svolte dalla polizia svolta dalla polizia giudiziaria che vi servono per comprendere diciamo così al meglio ad ampio spettro le indagini la videocassetta fortuitamente audio registrata con la conversazione tra Gugliotta Pietro e Savi Roberto fascicolo fotografico della vettura Mercedes 250 targata Forlisette è quella che ha portato vettura di cui ha parlato vista nell'ultimo episodio gentilmente questa qui sarebbe praticamente la lista dei documenti che io poi vi consegnerò così avete se volete la possibilità di seguirlo più partitamente perché nella lista credo state consultando voci sono anche degli atti irripetibili questi invece riguardano esclusivamente i documenti allora qui poi veniamo al documento 7 gli atti irripetibili sono già nei nostri sì 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 siccome nella lista testi ci sono alcuni atti irripetibili che io salterò come documenti essendo già magari se ci indica quelli già acquisiti su cui poi no per adesso non ci sono atti irripetibili sto solo discutendo di documenti sì certo poi qui avrei una richiesta valutatela voi forse al più se me la ammetterete sarà una curiosità o una innocente stravaganza istruttoria del pubblico ministero dunque c'è una rivendicazione o comunque un comunicato al documento numero 7 della falange armata della cosiddetta falange armata indirizzata o in qualche modo inviata alla procura di rimini al magistrato che all'epoca stava indagando su quei fatti su alcuni fatti scritti alla banda la uno bianca cioè il dottor sapio può essere una stravaganza me ne rendo conto nel quale in buona sostanza si invita gli investigatori a leggere un romanzo breve di Edgar Allan Poe la lettera rubata a me personalmente è incuriosito questa questa vicenda quel romanzetto l'abbiamo letto è interessante in sintesi che cosa dice dice che questa preziosissima lettera che tutti si affaticavano a cercare altro non era che in un portacarte posto in bella vista sulla scrivania di una persona autorevole dell'amministrazione francese o parigina allora dico vuoi vedere se qualcuno di loro ha lavorato presso la sezione di polizia giudiziaria della procura del tribunale di Rimini è una stravaganza permettetemela Alberto Savi ha lavorato presso la sezione di polizia giudiziaria della procura della repubblica di Rimini nell'88 88 fino 88 prima 89 ognuno ha le sue debolezze io vi chiedo di acquisirmi come documento è una mia debolezza questa rivendicazione questo comunicato della cosiddetta falange armata unitamente al libretto di Edgar Allan Poe unitamente unitamente al documento 7 bis che vi produrrò in fotocopia che sono 25 pagine ed è il romanzetto breve di Edgar Allan Poe al massimo ribadisco una stravaganza perdonatemi documento numero 8 videocassetta questa non è una stravaganza questa è importante videocassetta relativa a trascrizione della ricostruzione operata dal sovrintendente Costanza uno dei due investigatori del commissariato di Rimini in ordine alla individuazione di Savi Fabio è un documento molto importante che potremmo qualora me lo ammettiate mostrare in video perché proprio ricostruisce in maniera puntuale momento per momento ciò che accadde il giorno in cui venne individuata questa vettura Fiat tipo bianca il pedinamento il raggiungimento della piazzetta di Torriana dove abitava il Savi Fabio insomma è un bel documento probatorio ecco perché ci spiega le indagini ce le chiarisce o comunque ci mette nelle condizioni di vedere luoghi e fatti che altrimenti ignoreremmo questa è stata girata da chi? è stata girata dal sovrintendente Costanza del commissariato di Rimini da un operatore della polizia scientifica presente anche il dottor Paci di quella procura presente anche il dottor Paci di quella procura perché si tratta di un documento che credo sia stato già mostrato anche alla corte di assise è un documento irripetibile di Rimini come? è un documento irripetibile e beh sì è comunque un documento irripetibile ma credo che sia comunque un documento classico che riguarda le indagini analogo a quella che può essere una fotografia o quant'altro che normalmente viene acquisita viene acquisita come documento come documento un pepinamento ispezione no l'hanno fatta l'hanno fatta in diretta diciamo non è una ricostruzione filmata no che in diretta è una ricostruzione no 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 in diretta credo che ci fosse no io pensavo che no 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 non l'hanno fatta in diretta è una ricostruzione che parte da quell'istituto bancario arriva fino a Torriana però è molto utile perché ci dà tutta una serie di possibilità di vedere che altrimenti non non avremmo poi verbale di sequestro di un pungolo elettrico rinvenuto presso l'abitazione di Gugliotta Pietro dalle video passiamo al pungolo elettrico credo che questo dovrebbe già essere stato acquisito quindi chiedo scusa e vado avanti sto facendo un attimo di confusione niente abbiamo finito con i documenti per quel che riguarda diciamo così l'associazione per delinquere e la fase delle indagini diciamo ad ampio spettro indagini generali vediamo agli altri documenti qui vado rapido rapina casella do stradale di San Lazzaro documenti fascicolo fotografico delle autovetture dell'autovettura Opel Ascona utilizzata e dei rilievi fotografici della cantina di Roberto Savi di via Signorini dove ci sono le armi e quant'altro questi già li avete nel fascicolo del dibattimento in originale ma io ve ne devo chiedere formalmente l'acquisizione almeno come documenti otteniamoli lì come atti irripetibili ma credo comunque che sia più corretto parlare di documenti rapina coppe di Casalecchio di Reno e omicidio Beccari naturalmente per gli episodi che non ho menzionato cioè rapina al casello do stradale di San Lazzaro sia la prima che la seconda chiedo l'esame delle persone già indicate in lista rapina coppe di Casalecchio di Reno omicidio Beccari vari ufficiali di polizia sulle indagini Moncada Salvatore che è la vittima è la doppia vittima in un certo senso quello che subisce il furto subisce anche la calunnia reale da parte dell'allora brigadiare Macauda tutti i testi indicati in lista fino al test di cui a pagina 8 sovraintendente Toscano Giovanni su ciò che fece in ordine ai primi rilievi allora quando giunse sul luogo del fatto forse ci fu per eccesso di zelo in quella fase un certo maneggiamento delle armi rinvenuti in loco lo vedremo attraverso l'esame del sovraintendente Toscano che ritengo teste importante per questo fatto e poi sul particolare circa l'uso di un sacchetto di carta con marchio Coppi impiegato per occultare un fucile vediamo vedremo che questo tipo di occultamento ricorre in altri episodi criminosi ecco chiedo l'acquisizione delle dichiarazioni rese da Fontana Anna Maria è la collaboratrice di giustizio comunque la dichiarante scusi ma anche l'audizione no comunque nelle liste deve essere nelle liste pagina 9 è nella lista presidente no no non ho capito allora no non chiedo l'esame io chiedo che venga acquisita come prova ai sensi degli articoli 238 e 468 che vengano acquisite come prove i verbali delle dichiarazioni dibattimentali rese nell'ambito dei procedimenti o del procedimento nei confronti della cosiddetta banda delle cop da parte di Fontana Anna Maria non ne chiedo l'esame quindi non chiede l'esame no ma cauda domenico ai sensi dell'articolo 210 a quel sotto ufficiale che operò quei depistaggi è stato condannato per due uno ve l'ho raccontato l'altro riguarda la coppa di Casalecchio della quale ci stiamo occupando in questo momento è stato condannato anche per quel fatto ma sul punto non ammette alcuna responsabilità gli altri sono dei consulenti esame autoptico il dottor Sgarzi Ernesto è un test importante un test dell'accusa perché riguarda è un medico psichiatra e lo introduciamo in ordine all'attività professionale prestata a favore dell'occhi pinti di cui ho parlato affetto da usurimento nervoso nell'anno 88 documenti questi sono abbastanza semplici fascicolo fotografico della Y10 questo è già nel fascicolo del dibattimento però ve ne chiedo formalmente l'acquisizione verbale di arresto dei fratelli Moncada da parte del brigadiare Macauda il chiamiamolo depistatore come documento vi chiedo al numero 13 la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dei fratelli Moncada dopo lo smascheramento diciamo così della condotta calugnosa posti in essere dal Macauda 14 foglio delle assenze di servizio di occhi pinti marino fondamentale in quanto da questo si evince che era assente il giorno del fatto e nei giorni antecedenti numero 15 denuncia acquisto del fucile calibro 12 da parte di occhi pinti marino che è l'arma usata per l'omicidio Beccari 16 documento attestante l'accessione da parte di occhi pinti marino del fucile calibro 12 usato per l'omicidio Beccari e successivamente rivenduto inoltre nel medesimo documento vi è la prova dell'acquisto di polvere da sparo presso l'armeria Volturno da parte dell'occhi pinti marino certificati medici delle tre guardie giurate ferite documento 17 documento 18 dispositivo sentenza primo grado nei confronti della banda delle cop uno e mezzo dispositivo sentenza primo grado nei confronti della banda delle cop ma io per ragioni sistematiche vi indico nei tre episodi ascrivibili alla banda delle cop come documento il dispositivo della sentenza poi vi chiederò l'acquisizione proprio della documento come documento sentenza del primo grado secondo grado e cassazione documento 19 planimetria dello stato dei luoghi e rilievi fotografici mi sembra assolutamente indispensabile per poter ragionare non le sole parti relative agli episodi comuni come delle sentenze solo le parti relative direi che è assolutamente inscendibile comunque ne parliamo per adesso solo il dispositivo vi ho chiesto di acquisire poi ne parliamo quando arriva la sentenza allora planimetria dello stato dei luoghi e dei rilievi fotografici sono come dire dati di fatto materiali imprescindibili per poterci orientare perché attraverso i testimoni vi renderete conto che bisognerà avere un qualcosa sotto perché altrimenti è impossibile ricostruire l'accaduto per l'omicidio dei carabinieri strase del rio insisto per tutti i test indicati a pagina 10 e 11 a pagina 11 ritrovati il Macauda che fece opera di depistaggio qui e la confessa ecco a pagina 12 ultimo personaggio ultima persona indicata c'è tale Steriti Paolo Steriti Paolo all'epoca era un delinquente comunque un autore di fatti contro il patrimonio e in tempi non sospetti dialoga il passaggio è delicato in tempi non sospetti dialoga con investigatori di questa città sia dell'arma dei carabinieri che della polizia di stato probabilmente era informatore un po' per l'uno e un po' per gli altri racconta che verso la fine del dicembre 1987 si trova per ragioni sue lecito illecite ci interessa poco a questo punto in località Castelmaggiore nel piazzale o nei pressi del piazzale antistante la coppia si tratta di persona come dire smagata che conosce la vita capisce dall'atteggiamento che due soggetti da lui notati sono lì forse per fare una ricognizione o comunque non per diletto questi due soggetti sono ce li descrive abbiamo anche un paio di identikit sono uno alto un 80 un 82 uno più piccolino non vi dico altro perché non c'è altro da dire vi debbo invece dire che lo steriti Paolo prudentemente si annota la targa della vettura che è una vettura alfetta di colore scuro targata for lì su un foglietto malaguratamente perde questo foglietto però non perde completamente dalla propria memoria un paio di numeri di questa targa in particolare un 6 ed un 4 ne parla con gli investigatori della polizia e con gli investigatori dei carabinieri vedremo attraverso altri testi che oggi non vi posso introdurre perché sono attività ulteriormente integrative di indagine che sto facendo poi vedremo lo strumento processuale idoneo vedremo che alcuni qualcosa fanno altri non fanno niente chi fa qualche cosa altri non fanno niente perché dicono che ci facciamo di questa roba chi invece fa qualche cosa fa la cosa più normale più logica di questo mondo va a vedere tutte le vetture alfetta di colore scuro targate for lì immatricolate e poi si poteva anche restringere ulteriormente della ricerca fatto è l'elemento non è particolarmente rilevante nell'89 nel 90 insomma quando nell'89 dico bene quando viene riferito non è particolarmente rilevante il fatto è che tra le decine forse centinaia di vetture alfetta c'è anche una vettura alfetta di colore scuro targata for lì con nella combinazione alfa numerica il 6 e il 4 di proprietà di Fabio Savi lo steriti Paolo poi per una serie di vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto appieno viene arrestato proprio per l'omicidio Stasi del Rio e poi ha una storia giudiziaria che non ci interessa in questo momento e che comunque credo che sia opportuno che voi conosciate attraverso l'acquisizione documentale di cui penso che lo steriti Paolo debba essere sentito ex 210 naturalmente perché ritengo che sia opportuno e doveroso che voi sappiate questi fatti che io vi ho raccontato dalla sua voce e che a voi dica con chi parlò con quali investigatori parlò che tipo di atteggiamento che tipo di risposta diciamo così ricevette dagli investigatori medessi maresciallo Mosciatti è chiaro qui abbiamo poi i consulenti Martino Farnetti Aglio Graziano medicina legale vi dico ecco un chiarimento che è doveroso che vi faccia noterete non in molti casi per la verità però in qualche caso si ripetono i nomi cioè noi abbiamo almeno io nelle mie intenzioni avevo come idea quello di introdurvi un po' la cornice dell'evento mancando il benedetto rapporto attraverso quei testimoni cui ho fatto riferimento nelle prime cenni nelle prime pagine che sono in massima parte investigatori alcuni di questi investigatori responsabili o vice responsabili di apparati investigativi sia della polizia che dei carabinieri di Bologna voi vi li ritroverete nominativamente in alcuni episodi delittuosi io ritengo che visto il processo del quale ci stiamo occupando sia doveroso scindere i momenti processuali anche se sono persone che debbono venire da altra sede purtroppo ce ne scusiamo sin da ora ma noi siamo intenzionati a far fare loro un paio anche tre viaggi perché altrimenti viene fuori una confusione nella quale non potremo più raccapezzarsi credetemi è così per cui se un investigatore ha svolto indagini per due episodi rilevanti siccome intendo seguire una successione cronologica perché altrimenti non ci si capisce nulla verrà per due o tre episodi su questo siamo d'accordo l'importante è che non venga mai a vuoto a vuoto fino adesso non ho citato un test proprio perché mi rendo conto che dobbiamo muoversi preferisco far finire l'udienza prima piuttosto che rinviare dei testimoni su questo siamo assolutamente d'accordo e la ringrazio allora venendo ai documenti dell'omicidio Stasi del Rio documento 20 è una scheda degli orari dei treni in transito la sera del 20 aprile 88 presso il passaggio a livello di Castelmaggiore ha una sua rilevanza non so se vi ricordate che questa mattina tra le tante cose che vi ho detto vi ho anche parlato di una presunta chiamata che arrivò alla pattuglia la pattuglia invertì la marcia perché il passaggio a livello era chiuso allora abbiamo acquisito le schede degli orari dei treni per cercare di capire ci siamo riusciti credo di localizzare diciamo con esattezza il momento orario in cui eccetera eccetera 21 verbale di sopralluogo redatto dalla stazione Cicc non c'è problema spero che non ci sia problema è chiaro che cosa si vuole ci sono quelli su cui c'è importante memoriale del servizio va bene stazione Cicc 24 la nota d'accordo 25 riproduzione fotografica 26 riproduzione fotografica schizzo planimetrico 27 fascicolo fotografico 30 sentenza tribunale di Bologna nei confronti di Macau da Domenico in ordine al depistaggio delle indagini ne ho parlato diffusamente credo che sono sentenze passate in giudicato peraltro credo sia il documento 30 e 31 che sia opportuno capire anche quest'altro inquietante aspetto di questa complicata vicenda 32 fotografie commissionate dal Macau da 20 ad oggetto all'abitazione della famiglia Testoni accusata poi successivamente di gravi fatti falsamente di gravi fatti sono delle fotografie che il Macau dice ad un suo collega di fare in epoca addirittura antecedente all'omicidio Stasi e del Rio omicidio per il quale poi il Macau da posi in essere le attività depistatorie sono delle fotografie non è nulla di eccezionale sono semplicemente delle foto che raffigurano che rammostrano la casa di questa famiglia poi accusata ingiustamente la particolarità sta che le fotografie vennero commissionate ancora prima dell'omicidio Stasi e del Rio che poi sarà oggetto di depistaggio dal Macau va bene documento 33 semplice sentenza corte d'appello di Bologna ecco 34 dispositivo sentenza di proscioglimento emessa nei confronti dello Steriti a giustificazione del discorso che vi facevo prima del perché lo introduciamo col 210 34 bis tabulato delle autovetture Alfetta ho fatto riferimento tra le quali sono tante sono parecchie queste autovetture per carità non vogliamo dire mica che era facile tra le quali c'è quella di Fabio Savi Casteldebole 24 588 tutti i testi da lista è semplice qui soltanto per dimostrare l'entità del danno subito scheda testante prelevamento Massarenti pagina 15 qui ritrovate Fontana Anna Maria le cui dichiarazioni chiedo che vengano acquisite ex 238 e 468 ci sono dei consulenti il dottor Graziano Elio il dottor Ceccaro Ligeo della Polizia Scientifica di Bologna insisto per la loro audizione pagina 17 documenti 36 referto medico di Neri Valentino referto medico di Lullini Isauro fotografie ricevuta di prelievo attestante l'entità il solito estratto dalla sentenza un grado e mezzo riguardante l'episodio copp il dispositivo e siamo al documento 40 rapina di Viagorchi omicidio Alessandri 20 giugno 89 tutti i testi da pagina 18 a pagina 22 Ivi compreso l'ispettore Almanza Giuseppe all'epoca in servizio verso la squadra mobile della questura di Bologna sulle indagini svolte nonché sulla nonché sull'approccio investigativo avuto da questo ispettore con l'Anna Maria Fontana che poi diventerà collaboratrice di giustizia cioè quali ispettore? Almanza ispettore Almanza Giuseppe pagina 21 e la sesta credo la sesta voce o la quinta voce poi troverete due parole proprio di spiegazione tre nomi che praticamente sono sempre ufficiali di polizia giudiziaria è una funzionaria un agente un ispettore che non hanno nulla a che fare in maniera diretta con le indagini sulla copp però ci servono perché noi dobbiamo in qualche modo comprendere se possibile il possibile rapporto di conoscenza e frequentazione antecedente all'inizio della collaborazione di Fontana e Anna Maria con Marino Occhi Pinti allora che cosa servono queste tre testimonianze servono a introdurre alla vostra attenzione ciò che il sovrintendente Brusa ha preso direttamente dal Marino Occhi Pinti circa la conoscenza da parte di costruzione Anna Maria Fontana e una sorta di introduzione da parte dell'Occhi Pinti in squadra mobile di Anna Maria Fontana a fini investigativi all'epoca il sovrintendente Brusa lo riferisce alla dottoressa Maffei che lo riferisce all'autorità giudiziaria a riscontro via l'agente Lazzaro che conferma la frequentazione di Marino Occhi Pinti che all'epoca lavorava all'EUCT presso la squadra mobile dove invece lavorava l'ispettore Almanza Giuseppe che dagli atti ufficialmente è colui invece che introduce l'Anna Maria Fontana considerando che nel corso di specifici interrogatori Anna Maria Fontana esclude di aver mai conosciuto Marino Occhi Pinti e viceversa riteniamo che sia opportuno doveroso e necessario sottoporre alla vostra attenzione questo particolare perché Marino Occhi Pinti non dimentichiamo lo risponde in questa sede di un fatto delittuoso coppo sul quale ha deposto a suo tempo l'Anna Maria Fontana nei confronti di altri soggetti dunque documenti 41 42 43 non c'è problema documento 44 due parole si tratta di un fonogramma relativo al rinvenimento sulla Fiat 1 bianca usata per il fatto di una pistola colt 357 sottratta il 12 novembre 88 ad una guardia giurata in servizio presso la Copp di Pesaro per questi fatti i savi sono già stati condannati documento 45 richieste di rinvio a giudizio PM Pesaro sentenze di primo grado si tratta di atti processuali di diverse autorità giudiziarie che credo potranno esservi utili qualora se ne rappresentasse la necessità per cercare eventuali chiarimenti e risposte trattato omicidio Cristal Gay Driss Achesby tutti i testi di quella lista rapina ufficio postale di via Emilia Levante tutti i testi e i consulenti di cui ha la lista tra i consulenti via la dottoressa Susi Pelotti che ha svolto le due consulenze DNA delle quali vi ho parlato stamattina 46, 47, 48 certificati medici piantina topografica della zona e rilievi tecnici della polizia scientifica sono consulenze come? sono consulenze senza il 359 no no Presidente la dottoressa Pelotti Susi è introdotta come test trattandosi di consulenza ex 359 poi passa i documenti in relazione all'episodio delle poste di via Mazzini pagina 25 dipende quale documento state seguendo voi se è quello generale pagina 25 documenti 46, 47 e 48 certificati medici piantina e rilievi tecnici rapina di via Saragozza la vettura della quale parlavo stamattina nel garage nulla da dire insisto nella discussione dei testi indicati nulla da dire sui documenti sono verbali di Vigili del Fuoco certificato medico attestato di distruzione del corpo di reato cioè dell'ogiva estratta dalla gamba del signor Lazzari che non abbiamo potuto esaminare essendo stato distrutto rapina discount del Faraone antecedente all'omicidio Zecchi pagina 26 tutti i testi di cui è pagina 26 27 e 28 come documenti documento 52 credo che possa essere acquisito o come documento addirittura come scritto proveniente dall'imputato perché c'è una relazione di servizio guarda caso a firma Savi Roberto redatta in occasione del rinvenimento del veicolo Fiat 1 utilizzato acquisitemelo 52 53 cartelle cliniche assalto ai campi nomadi di Santa Caterina di Quarto tutti i testi di cui è pagina 28 e 29 come documenti come documenti referti medici e rilievi tecnici della Polizia Scientifica omicidio duplice tentato omicidio la Unsin Munadif progetti lavavetri testi da lista documento referti medici assalto ai campi nomadi pagina 30 23 12 90 tutti i testi di cui è pagina 30 e 31 testi e consulenti perché in tutti i fatti di sangue abbiamo sempre dei consulenti è chiaro come documenti cartelle cliniche fascicolo dei rilievi fotografici documento 60 interessante è anche qui forse uno scritto proveniente dall'imputato un documento to cure comunque può essere sicuramente acquisito è la comunicazione di Savi Roberto al commissariato Santa Viola datata 2 gennaio 91 in ordine all'acquisto del fucile Beretta R70 eccetera che è il secondo fucile che lui acquista ed è quello che poi porta in quest'ue il 27 dicembre perfetto il 27 dicembre bravo eh sì pagina 32 tentato omicidio Faradi Paschio e Pedini interviene l'assistente Cricelli nell'immediatezza testi e consulenti come da lista pagina 32 33 documenti soltanto la planimetria del distributore esso con relativo fascicolo fotografico triplice omicidio Moneta Stefanini Mitilini tutti gli investigatori di cui è pagina 33 34 sono tanti agenti sotto ufficiali ufficiali funzionari vigili del fuoco che erano lì per altro intervento pagina 35 36 cosiddetta prima fase angolo Casini Adanegri tutti i testi ivi ovviamente compresa Bersani Simonetta che è la testa oculare ex articolo 210 perché venne a suo tempo indagata questa si chiede l'esame invece pagina 36 sì sì di questa chiedo l'esame essenzio dell'articolo 210 e non la produzione no no di questa persona di questa ragazza perché è molto giovane ancora chiede l'esame ex articolo 210 su chi vide la sera del 4 gennaio 91 appena uscito dalla propria abitazione eccetera eccetera i capitoli di prova sono sono riferiti in dettaglio sono riportati in dettaglio sulle modalità della sua collaborazione le telefonate i colpi d'arma da fuoco percepiti insomma non mi sto a dilungare quanto già depositato a suo tempo grazie a tutti